uno due tre stella ciao stella l'ho tirata la laghiata iniziale non l'avete tirata stavolta no abbiamo una volta che mi ha fatto il gioco vabbè ma c'è sempre tempo dacci tempo non ti preoccupare ma perché mi odi tu oggi ma che hai che vuoi da me comunque perché io parlo stai proprio mi stavo dicendo una cosa importante relativa alla live lei stava dammi il cellulare lo fa l'imitazione io pagavo paolo certo io pure sto leggendo cose io pure ma stavi rispondendo uno stronzo basta senzitto cominciamo la live che c'è la gianteccia oh bravo bravo beppe sorridi un po' c'è un po' di meno luce verso quella zona se mi presenta il meme è quello degli incredibili quello che prima sorride poi si spegne così ecco in questo momento io devo controllare che ma cron qua sta facendo ferro e fuoco quindi io controllo adesso adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo la prima cosa visto che nelle scorse live mi sono scordato di farlo subito volevo appunto ringraziare gli ultimi abbonati grazie mille ad arturo massimo che in questo momento ha regalato cinque abbonamenti community grazie mille ragazzi mi raccomando ricordateci di sostenerci anche su twitch visto che tantissima gente si sta spostando su youtube non c'è problema però ragazzi non scordatevi di abbonarvi anche lì e voglio ringraziare a proposito gli ultimi abbonati su youtube ovvero guido keller alessandro costantini tohani 1953 sandro czml e core oltre ovviamente a l'ultima donazione di riccardo grazie mille ragazzi noi possiamo andare avanti solo grazie a voi ve lo ricordo il link è qua people.me slash lascialuppa punto podcast allora ragazzi buonasera oggi esatto lo sta scrivendo tutti che ci sono collegati alcuni che hanno scritto anche direttamente che hanno staccato la live di pabbole sono arrivati direttamente qua benissimo benissimo oggi giornata importantissima perché c'è la scialuppa ma anche perché è il 14 marzo lo sai perché è importante il 14 marzo lo sapete voi dici dici 14 03 non vi dice niente il numero facciamo così diciamo 3 14 non 14 03 dai la giornata del tempi greco perché c'è la bronciotte ci sono arrivati grandi uno c'era uno c'è quindi vogliate no no due 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 vedi che lo sanno grande ragazzi grande ti rispondo come rispondo a paola quando mi dice cose è a me non interessa rispondere lo so che è del macellaio io gli rispondo macellaio io che cazzo io che cazzo comunque non fate gli splendidi che abbaccotate tutti il pic greco come se lo sapevate non lo sapevate dai sono dati su internet no ma direi primi 20 minuti della live documentario su che cos'è il pic greco no dai ragazzi sto scherzando anche perché ci sono questioni molto più gravi da affrontare anche proprio dell'ultimo minuto e direi che possiamo già iniziare ad affrontare con il nostro ospite che è letteralmente uno dei più amati a bordo adesso non voglio tirarmela però tutte le live che abbiamo fatto finora con lui hanno fatto almeno il 99 per cento di live dobbiamo dare un soprannome tiziano che senso il soprannome e no come gli altri podcast che in ospite lo chiamano il nostro analista scusa l'analista senza nome l'analista già che ci siete mettete like che almeno quello è gratis e ci aiutate un sacco con le interazioni e per il resto buonasera bentornato a bordo al nostro tiziano ciocchetti ti messi gli applausi l'ho fregato peppe comunque ce l'ho arrivato anch'io al pic greco buonasera a tutti i nostri ascoltatori e spettatori hanno preso fuoco tutti i miei professori del liceo io ho fatto lo scientifico si siete solo voi che siete fuori dal mondo aspetta che ci stanno scrivendo siamo anche su twitch basta che ci cerchi su twitch la scialuppa ragazzi siamo dove volete adesso faccio pure fatica a chiudere i commenti perché ne stanno arrivando i cosi tanti che al posto che chiuderlo proietto quello di qualcun altro comunque partiamo dalle notizie dell'ultimo minuto questa è proprio recentissima tac macron rivendico le mie parole sulle truppe in Ucraina noi abbiamo un obiettivo la Russia non può e non deve vincere quindi appunto ha rivendicato le sue affermazioni sulle truppe in Ucraina perché lo sapete no? aveva fatto affermazioni simili anche tempo fa poi corrette ed evidentemente ad un'intervista proprio dell'ultima ora le ha ribadite noi abbiamo un obiettivo la Russia non può e non deve vincere adesso non so se i pabbolo qualcuno in chat o magari anche lo stesso Tiziano l'ha già vista questa intervista perché è davvero recentissima però io sto leggendo da altre parti dei alcuni punti salienti per esempio leggo sul canale Giubbe Rosse che per quanto mi riguarda di solito è abbastanza affidabile che scrive alcune citazioni se la Russia vincerà questa guerra la credibilità dell'Europa sarà ridotta a zero uno su cinque due sull'invio di truppe francesi in Ucraina non escludiamo quest'opzione se la Russia dovesse vincere questa guerra la vita dei francesi e di tutti gli europei cambierebbe quattro non dobbiamo essere deboli per raggiungere la pace in Ucraina siamo pronti a utilizzare i mezzi per raggiungere il nostro obiettivo di vincere la Russia e cinque oggi siamo pronti a utilizzare tutti i mezzi necessari per garantire che la Russia non vinca la guerra in Ucraina compreso l'invio di truppe quindi è tornato sui suoi passi è lo stesso concetto in salse diverse per cinque punti soltanto che l'ha detto in diretta nazionale tra l'altro nella intervista avevano abilmente disattivato tutti quanti i commenti ci tengo a dirlo perché così non sapremo mai in realtà quali sono le emozioni così a caldo della gente ma perché disattivare i commenti non sono tutti gli indiani come la Meloni che ti vengono a spammare le gifli se sei dell'India metti like qui chissà perché ha eliminato i commenti no perché mi aveva un'idea se per dieci centesimi di aumenti hanno fatto quel casino ti immagina se beh diciamo che Macron soprattutto recentemente non gode di una posizione diciamo così autorevole per mettersi a fare il condottiero ecco questo indubbiamente sì però si delinea un quadro particolare perché temo che non potranno nemmeno isolarlo in queste affermazioni poi non lo so dovrei vedere bene l'intervista per intero però l'emozione così a caldo è che è veramente preoccupante la faccenda considerando che la Francia è membronato quindi stavo riflettendo sul fatto che la Francia ha iniziato due anni fa l'appoggio alla Russia in maniera soft è stato un crescendo wagneriano fino ad arrivare ecco a questi ultimi minuti in cui De Gaulle novello Napoleone vuole tornare al 1812 con la Grande Armée e tentare di sconfiggere la Russia Napoleone a Mosca c'era arrivato ma aveva trovato più che altro terra bruciata ed è dovuto tornare indietro e io penso che Macron non arriva neanche a Bardonecchia credo credo che non arrivi neanche lì ecco ma come l'hai detto lì non siamo affatto ridere quindi vai vai allora qui che cosa abbiamo di fronte abbiamo di fronte il presidente di una potenza nucleare dell'unica potenza nucleare dell'Unione Europea quindi possiamo dire che è quello che detta la linea perché c'ha le armi che contano c'ha le armi che contano che sta dicendo che per salvaguardare la democrazia per difenderci dalle dalle barbarie del Cremlino dei russi bisogna andare a combattere con le nostre truppe in Ucraina ora io ricordo che fino a due anni fa la Russia aveva dei rapporti amichevoli con l'Europa aveva degli scambi diversissimi scambi commerciali lasciamo perdere adesso il discorso energetico con la fornitura di gas che insomma ci manteneva al caldo mezza Europa se non tutta Europa ma ad esempio l'Italia solo con Mosca aveva degli scambi nell'agroalimentare per un miliardo di euro l'anno Putin era accolto in tutte le cancellerie d'Europa all'Eliseo al Quirinale conferenze stampa con vari presidenti del consiglio da Gentiloni a Letta con Mattarella improvvisamente il 24 febbraio del 2022 è diventato il male assoluto quasi un fratello gemello di Hitler insomma una persona da schifare è completamente cambiato è cambiata la percezione di noi occidentali nei confronti della Russia costruito non nell'era Putin ma addirittura ai tempi della guerra fredda dove si intrattenevano nonostante fronti contrapposti relazioni non dico amicali ma sicuramente positive nei confronti dell'allora Unione Sovietica in due anni decenni di rapporti diplomatici di rapporti economici anche di rapporti politici sono stati scaricati in eccesso e adesso la Russia è diventata non lo so quella del del 47 quella del 49 con la formazione dell'alleanza atlantica cioè questo nemico è in questo nemico è assoluto che minaccia le nostre democrazie che minaccia i nostri stili di vita che minaccia i nostri confini che insomma mi sembra che fino all'altro ieri parlare di confini ti tacciavano di nazionalista di fascista di quant'altro adesso improvvisamente siamo tornati a difendere i confini mettetevi un po' d'accordo perché io non gliela faccio salve dietro e quindi a me sembra che stiamo nel campo delle assurdità ora se parla Biden ho capito che ci vuole geriatra comprenderlo ma Macron è più giovane di me cioè non credo che soffra di demenza senile precoce non penso quindi il gioco a cui sta giocando sinceramente è un gioco pericoloso non è risico tra l'altro i militari hanno reso pubblico un rapporto redatto nei militari francesi redatto nell'autunno scorso dove praticamente dicono che la famosa controoffensiva partita nel maggio scorso Ucraina è fallita che le condizioni delle forze armate russe sono tutt'altro che pessime come dicevano tutti gli analisti di buona parte dei militari occidentali ma l'ha messo anche Crosetto anche Crosetto proprio ieri anche se una notizia è passata molto in sordina ha confermato la stessa identica cosa ok dopo un anno è riuscito a finire il debiliano che gli avevano dato da leggere scusate le battute perché no no ma che va benissimo ci vuole siamo in un po' ma cerco di farle per alleggerire la situazione la situazione è grave e la Russia la Macron è un presidente di una nazione di una potenza nucleare ogni sua parola ha un peso ogni sua affermazione conta insistere sull'invio di truppe nato in territorio ucraino poi bisogna vedere non credo che intendesse il fronte ucraino non so cosa intenda quest'uomo sinceramente ma non credo che farà un appello alla nazione francese andiamo a combattere come nel 41 con la legione dei volontari francesi nell'operazione Barbarossa in Russia o per le Waffen SS della divisione Charlemagne che furono tra gli ultimi difensori di Berlino nel maggio del 45 non non penso che si anche perché vorrei vedere chi ci andrebbe volontario a combattere contro la Russia perché noi che siamo per la pace non ci andremmo quelli che dicono guerra guerra battlefield e crociate non ci vanno manco loro quindi sarebbe buffo nel caso ma a parte che i primi a dire tu sei scemo sono i militari francesi signori miei perché uno perché hanno il polso della situazione due perché è un'assurdità tre ma due anni per per vent'anni per venticinque anni gli eserciti occidentali si sono addestrati ed equipaggiati per attaccare per combattere il miliziano il fondamentalista musulmano il talebano e insomma guerrieri qui abbiamo quindi dici che non hanno l'addestramento per affrontare un altro esercito neanche l'esercito francese è meccanizzato come una volta anche loro hanno fatto una transizione sui ruotati non estrema come la quella dell'esercito italiano per carità ma comunque significativa e in in Ucraina con quel terreno si impantanano i carri inglesi Challenger da 62 tonnellate il terreno ucraino è come il burro con l'arrivo della bella stagione il terreno comincia a diventare fango e diventa tutto un macello lo stesso la stessa situazione trovo la Permac che non era tutt'altro che un esercito meccanizzato nel 41 per arrivare a Mosca era tutt'altro aveva 200.000 cavalli nel suo esercito quindi era tutt'altro che meccanizzato queste sono le leggende che beh che poi è la stessa situazione che incontrarono i leopard i famosi leopard proprio quando gliel'hanno gliel'abbiamo appena mandati no? Paola quei leopard a me sembravano un po' strano i tedeschi hanno tolto parecchia protezione mi sembravano una forma un po' strana quei leopard 2 a 6 però comunque erano sempre signor carri per carità erano pezzotti quindi il pezzotto dei leopard mi sembrano gli torri perché comunque la protezione aggiuntiva è all'astre stratificate quindi secondo me qualcosa gli hanno tolto per conservarsene loro non per altro gli eserciti europei si sono svuotati i magazzini per poter armare gli ucraini che hanno decisamente fallito la vittoria ucraina è impossibile adesso non so di Macron di cosa parla ma la vittoria russa ovviamente è relativa in base alla possibilità della Russia di ottenere il massimo in questa situazione quindi è tutto relativo ma di assoluto c'è che la vittoria ucraina è impossibile e se ci fate caso credo che Zeresky da un po' di tempo non parli più di riconquiste della Crimea e fantasie però aveva annunciato settimana scorsa la nuova controffesiva estiva la fa Macron la fa la legione straniera chi la fa la controffensiva con quali mezzi non ci sono più mezzi non ci sono più uomini i militari francesi hanno calcolato che nell'autunno scorso all'esercito ucraino servivano dai 35.000 ai 40.000 uomini e ne avevano la metà quindi non solo non ci sono i mezzi non ci sono neanche più gli uomini perché sono stati uccisi o sono scappati per non dover combattere adesso stanno facendo oltre 200.000 riservizi scappati nel corso del tempo non soltanto nell'ultimo periodo però adesso che stavano procedendo con il reglutamento forzoso diciamo che la percentuale soprattutto nell'ultimo periodo si è accentuata non di poco che stanno anche cominciando a circolare i primi video di questi qua fermati dentro i camion che stanno cercando di scappare verso il confine polacco eccetera grazie al cattro super forte ma perché il reglutamento forzoso poi hanno preso pure in esame almeno questo sembrava sembra trasparire poi da prendere sempre con con le pinze e col beneficio del dubbio che stessero accarezzando addirittura l'idea di inserire i non perfettamente idonei che significa anche persone diciamo con problematiche con patologie fisiche magari i non idonei a svolgere il servizio quest'anno ero totalmente perso andiamo bene magari chi ha problemi di cuore chi ha questo tipo di problematiche qui ha un visus basso o quant'altro ma questo sembra molto ricordare il folksturm dell'aprile 45 a Berlino cioè qui stiamo un altro cuore e concludiamo i 14 anni quando si arriva a questo vuol dire che ci sono poche ci sono poche carte ormai più da giocare ormai siamo arrivati a Fort Alamo ovviamente i russi in questa questo frangente non hanno interesse a trattare perché in questo momento sono in vantaggio non solo da un punto di vista materiale ma anche morale perché è ovvio che in queste condizioni le forze ucraine a corto di materiale a corto di uomini sono demoralizzate e quindi non sono secondo me più in grado di poter continuare da qui a infinito perché prima o poi questa guerra dovrà finire non è possibile che duri all'infinito magari finirà con una sorta di stile trentottesimo parallelo 1953 dove ancora bisogna fare un trattato di pace in 71 anni di armistizio magari la linea di demarcazione sarà il fiume Dnipro probabilmente non lo sappiamo se questo se questo sarà però scusate voleva commentare anche lui che secondo me ha sentito d'odore di Russia da qualche parte quindi è andato a difendere l'Occidente stavo pensando che c'è anche la questione Odessa in ballo in questo momento che non è un dettaglio da poco Odessa è molto importante sia per gli ugrani che per per la Russia quello che è sicuramente adesso è difficile fare previsioni da qui a un mese da qui a un anno ormai siamo abituati da due anni che tutti fanno previsioni la Russia era sconfitta già da da un anno e mezzo le sanzioni avrebbero dovuto metterla in ginocchio già ad aprile del 2022 mi sembra che insomma non sia andato proprio così sinceramente tutt'altro quello che no no volevo dire quindi spero che le parole di Macron non sono soltanto propaganda per dire no non ci siamo dimenticati di voi non lo so esatto infatti anche questa è la domanda che volevo fare cioè soprattutto da ragazzo cioè ciò che alla fine coinvolge anche Peppe questa questione qua no questa io ho fermato il richiamo quando ho fatto il volontario esatto esatto vabbè l'hai detto te non ero sicuro se poterlo dire oppure no per sicurezza hai detto te però ok abbiamo detto che è difficile ovviamente fare previsioni e ci mancherebbe è difficile per chiunque compreso un analista militare e una persona che è a contatto con queste realtà tutti i giorni quello che ti volevo chiedere è però secondo te quali sono gli scenari più probabili che ci possiamo aspettare in futuro poi non ce ne deve essere per forza uno su cui puntare perché poi si rischia di fare come stavi dicendo giustamente come hanno fatto in questi due anni vinceremo vinceremo perderanno però quali sono le varie diramazioni che secondo te può prendere questo conflitto e poi se appunto dobbiamo preoccuparci soprattutto noi giovani maschi anche direi che se lì poi dovrebbe essere valutata come questione come occidente se mandiamo al fronte i maschili i uomini che si identifica come cosa e ci dobbiamo preoccupare o no Roberto ti rispondo subito a quest'ultima domanda e da quel punto di vista le forze armate italiane non si muoveranno certamente dal territorio nazionale tranquillissimi e proprio perché noi abbiamo una se per assurdo l'esercito italiano dovesse uscire dai confini nazionali una volta che dovessero tornare troverebbero il papà cadrebbero 25 governi di seguito per un'unghia rutta non non è roba per noi non è roba per noi ma neanche per i francesi ma figurati per noi se non è per i francesi figuratevi per noi non c'è assolutamente pericolo che qualcuno in Europa a secondi Macron se veramente è cosciente a quegli intenti ma i primi sono come dicevo prima sono i militari che lo frenerebbero e lo bloccherebbero non non c'è alcuna realtà veramente una realtà pratica che ci porterà a combattere noi europei in Ucraina non esiste proprio è un'assurdità è un'assurdità non lo vuole la politica non lo può fare ma non credo neanche l'hanno chiesto neanche l'hanno chiesto gli americani quindi non capisco proprio vabbè ma quella è l'essere il dimostrare di essere proprio fedeli fino alla linea hai capito fedeli alla linea ma è assurdo per i francesi perché i francesi dalla fine della seconda guerra mondiale che ricordo hanno perso se qualche francese ci sta ascoltando la seconda guerra mondiale l'avete persa hanno sempre cercato di avere una loro politica estera alternativa a quella americana e quello che sta facendo Macron è una contraddizione in termini sta rinnegando 80 anni di politica estera francese eh uno ci ha scritto ricordiamoci che Macron ha fatto quello che ha voluto in Libia Libia no Sarkozy era Sarkozy era Francia forse si voleva dire sia Francia no vabbè diciamo che io ho anche un'altra interpretazione di questa faccenda qua io credo come ho detto anche oggi nella live che questi siano gli ultimissimi tentativi per stravolgere completamente diciamo la visione che abbiamo che abbiamo avuto noi in questi due anni nel senso che se io provoco 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 magari quello lì la botta da matto la fa e io improvvisamente passo dalla parte del giusto della storia no un miracolo per cui questo qua bocchi a continue provocazioni e faccia un passo falso che mi fa guarda che Paola in questa situazione come l'Occidente sta buttando benzina sul fuoco e sto dicendo qualcosa di forte dovremmo essere contenti che dall'altra parte ci sia una persona come Putin una persona che non si fa intimidire Putin può essere quello che vi pare poi la storia lo giudicherà in un modo o in un altro non sta a me non sta a noi dire quello che è giudicare dal punto di vista etico Putin però sicuramente è una persona che sa gestire il comando anche nelle situazioni di crisi quindi io sinceramente potrebbe sembrare un'assurdità ma mi sento rassicurato dal fatto che dall'altra parte ci sia un uomo come Putin è calla è calla no vabbè gente c'è sicuramente con molto più chiunque può interpretarlo come gli pare ma questo è un mio pensiero dal lato nostro no se c'era Medved io mi sarei già andato da un'altra se ci fosse stato sì probabilmente ma in realtà è pure secondo me l'atteggiamento che c'ha Macron in questo momento che deve in qualche modo come compensare il buco della Germania perché la Germania l'ha persa un po' alla sua leadership europea cioè non è più identificabile come il trainante d'Europa in qualche modo io credo che siano anche i deliri come posso dire proprio a scopi personali di Macron di dire guardate io invece so forte ma però come si sta provando a prendere il posto quindi perché se ci pensi in Europa manca una figura leader ha fatto più una figura di Merkel ma non è De Gaulle Macron non è De Gaulle eh no ma beh questo non è la postura di De Gaulle ok poi De Gaulle fece il contrario andò contro gli interessi americani uscì dalla Nato nel 66 allacciò rapporti bilaterali con l'Unione Sovietica e sviluppò l'arma atomica proprio per sottrarsi al diktat dell'impiego dell'arma atomica eh imposto dagli americani quindi eh se vuole fare il De Gaulle sta facendo esattamente l'opposto di quello che farebbe De Gaulle non lo sto non lo sto assolutamente capendo dove vuole perché è un blef è un blef non può mandare soldati francesi in Ucraina wow è difficile per te figurati per chi non è una lista no ma non lo può fare è che chi ci spera capito perché voi pensate che questa cosa diceva bello tutti quanti lo interpretano come un pazzo delirante come lo stiamo interpretando noi ma guardate che un sacco di gente invece ci spera c'è letteralmente ci sta uno nei commenti aspetta ci sta uno nei commenti che è venuto anche nella live tua un certo bocci che lì ci spera è uno che fa 24 febbraio ho letto un commento che non è che mi è quadrato tantissimo a cui volevo rispondere dice ma voi state parlando il senso era state giustificando Putin che vuole decidere per un altro stato allora va bene mi va mi va bene mi va benissimo ma siamo sicuri che queste siano anche le volontà ucraine quelle di andare avanti fino all'ultimo ucraino perché a me interesserebbe vedere anche in base ad una votazione no eppure mi risulta che non li non li facciano votare cioè che Zelensky abbia detto che no chiaramente siccome è periodo di guerra non è il momento di fare delle votazioni ma vabbè Zelensky ha abolito gli altri partiti vieta qualunque elezione controlla la stampa vabbè il popolo non può votare chiaramente ci sono i russi che li puntano questo alla testa sono proprio all'apice diciamo vedo molto nel principio dell'autodeterminazione dei popoli però vorrei che fosse l'autodeterminazione dei popoli non la volontà di Zelensky allora io lo chiederei sono gli AK47 puntati la testa del popolo come fanno a votare andare alle urne Zelensky esegue solamente gli ordini di Washington perché senza Washington i russi sarebbero a Kiev probabilmente in questi due anni l'Ucraina ha resistito grazie principalmente agli aiuti occidentali ma gli aiuti occidentali volevano dire aiuti americani inglesi e in minima parte francesi i tedeschi i noi italiani quattro cose niente di più ma ci sono specialisti dell'antiaerea americana morti in Ucraina per i contrattacchi russi le operazioni SED di soppressione delle difese antiaeree nemiche così come ci sono morti inglesi gli occidentali sono già i soldati occidentali e non sto parlando delle famose brigate di volontari stranieri ma si parla addirittura nella ceria di Azov infatti pigliarono tanto tempo per farne scappare addestratori addestratori straniari ma gli americani sono in in Ucraina ad addestrare i soldati ucraini già dal 2008 forse anche da prima cioè questa storia va avanti dall'altro decennio quanto poteva sopportare ancora la Russia hanno sbagliato ad invadere l'Ucraina ma le provocazioni sono state tante le provocazioni sono state veramente tante e trovarsi ai confini una base americana una base della Nato per la Russia non era proprio il massimo come non lo sarebbe stato per gli americani se ciò fosse avvenuto in Messico pensiamo alla crisi missilistica di Cuba ad esempio infatti appena i missili a ridosso di loro confini non è che hanno gradito proprio no fecero il blocco dell'isola appunto vorrei troppo chiedere a tutte quelle persone con la bandirina dell'Ucraina e che in questi anni non ho detto di tutti i colori se la conoscono quella storia sei proprio roberto ti dico nell'83 quando Cuba si stava quando Grenada si stava in isoletta a largo delle coste venezuelane si stava avvicinando a Cuba Reagan ordinò immediatamente l'invasione dell'isola perché non voleva che ci fosse un governo o meglio non voleva che l'influenza castrista si allargasse in Sud America e nell'America Latina perché i missili sono belli solo i nostri ma è normale una superpotenza non può avere nemici vicino ma può avere solamente nazioni alleate e questo capisci perché nel 73 la CIA rovesciò il governo di Salvatore Allende in favore del generale Pinochet non si può non può guardate la Russia dove praticamente solamente l'Ucraina la separava dai paesi NATO sì 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 quindi vai vai cosa stavi dicendo no no c'era un commento che diceva cosa pensate allora che la che la NATO sta spendendo tutti questi soldi in armamenti e esercitazioni per nulla qualcosa dovrà succedere le parole di Macron sono la conferma però questa diciamo questa affermazione domanda risposto prima Tiziano con un ottimo punto che ho detto ottima riflessione secondo voi chi presidente primo ministro europeo si piglia la responsabilità di dire al po al proprio popolo andiamo nessuno cadere il vero a questo all'altro ma non esiste proprio non è nella mentalità post seconda guerra mondiale dei popoli europei ma non non sarebbe neanche pensabile da parte loro ma tu ma voi immaginate il presidente del consiglio Meloni che va in diretta televisiva a dire che manderà un contingente in terra ucraina vincere vinceremo spezzeremo le reni più che vinceremo spezzeremo le reni perché poi la prima unghia che si spezza un soldato là in macello e qua possiamo collegarci dopo un'ora hai di nuovo i comuni hai veramente i ducati non esiste più l'Italia no no concludi concludi dico dopo no no dico le le nazioni che possono mandare i propri eserciti fuori sono due tre non di più al mondo in una situazione del genere attenzione non sto parlando di un'operazione fuori aria peacekeeping peace enforcing no no sto parlando di una guerra tutto peace una guerra una guerra convenzionale contro l'esercito più potente del mondo contro l'esercito che ha l'artiglieria più potente del mondo cioè quello sto parlando non secondo Open mi sembra che abbiano disintograto ma mi sembra che i fatti lo dimostrino il contrario hanno disintegrato tutti i mezzi che gli abbiamo mandato circa 40 miliardi di materiale vabbè ma che sono bisogna considerare che questi veramente per due anni hanno raccontato che quelli non avevano le munizioni che prendevano i cipolli e i frigo e i frigo volevo dire sempre un'altra cosa relativa a questa cosa che ha detto Tiziano un'altra prova che anche l'opinione pubblica perché non siamo più negli anni 40 che con quattro pagine di giornale avevi tamponato tamponi conquisti anche perché non fai vedere alle persone basta ma scusa ma erano quelle generazioni che sta dicendo tu erano generazioni abituate alle guerre le guerre fino al 45 si succedevano una dietro l'altra erano un altro tipo di anche dal punto di vista antropologico oserei dire erano altre persone altra mentale un'opinione pubblica era completamente differente adesso che noi viviamo 80 anni di pace e dico da anni attenzione che è un vulnus storico non esiste nella storia dell'umanità questi periodi non esiste un periodo così lungo di pace prima o poi dovrà succedere qualcosa e ok che succede qualcosa ma non è che lo deve scatenare un francese qualcosa fammi dire una cazzo di grattata un francese che manco sanno usare il bidet e vogliono fare le guerre aspetta insieme gli applausi sincronizzati allora fermi tutti ne approfitto un attimo perché questa te la rubiamo questa te la rubiamo nel video di domani state buoni un secondo allora grazie mille a Hariman81 grazie mille a SorchinoTM che ci ha scritto nove mesi è nato no spè meglio di no mamma mia nove mesi che ci sostiene ragazzi un vero esempio fate come SorchinoTM grazie a Mimmone23 che ci sostiene su Twitch da due mesi e grazie a GrayfoxStream che ci ha sostenuto anche lui su Twitch vi ricordo che se avete Prime ci volete sostenere da Twitch gratis e poi soprattutto voglio ringraziare gli ultimi abbonati su YouTube che sono arrivati proprio in questo momento proprio una sfilza ne abbiamo grazie mille a Cloro grazie mille a Stefano Daniele Porciani Gianluca Crepaldi Marco Guarnieri e soprattutto Pischi Pirin Pischi che ha regalato cinque abbonamenti canale La Scialuppa quindi ragazzi grazie mille noi siamo in live in questo momento se il canale se il canale sta crescendo stiamo creando questa community è grazie a voi che ci permettete ad essere qui live vi ricordo ve lo faccio rivedere come sempre se volete farci una donazione senza commissioni di Twitch o di YouTube anche semplicemente un euro il prezzo di un caffè potete farlo qua paypal.me slash la scialuppa podcast benissimo poi abbiamo fa vedere ah sì volevo rispondere a questi commenti perché c'è un certo Giovanni che da 20 minuti ti ha fissato che non so perché che mi vuole fare vedere il bersagliere dicendo anche mi sa che vuoi andare in marina no non voglio assolutamente andare in marina non voglio nessuna guerra mi sono toccato le palle anzi prima quando Tiziano ha detto è troppo che c'è questo periodo di pace prima tra l'altro secondo me non so se lui o qualcun altro aveva scritto c'hai anche il fisico no ti assicuro che non ho neanche assolutamente il fisico sono un secco di merda quindi vai tranquillo non c'è nessun bisogno di mandarmi nell'esercito allora mi ero salvato un po' di domande solo che stavo guardando che forse ad alcune ha già risposto allora l'esercito francese non è in una situazione abbastanza difficile per qualità ci chiedono no scusa non ho capito non comprendo la domanda dicono se l'esercito francese non è in una situazione abbastanza difficile per qualità allora l'esercito francese pur essendo di un livello superiore rispetto agli altri livelli agli altri eserciti e quell'esercito intendo le forze armate in generale e rispetto alle altre forze armate europee risente del fatto come tutti gli altri che non c'è più da anni ormai un addestramento una mentalità un indottrinamento per combattere guerre convenzionali e lo abbiamo dimostrato anche con l'addestramento che abbiamo impartito agli ucraini anche per le dottrine che gli abbiamo fatto applicare in un contesto di una guerra ad alta intensità e infatti avete visto che fine hanno fatto i carri e i veicoli corazzati che gli abbiamo dato la maggior parte sono saltati perché invece di attaccare con forze consistenti su un punto di minor resistenza delle difese russe le hanno sparpagliati in piccoli nuclei che sono stati facile preda sia dell'artiglieria russa che dell'utilizzo di lightering munition cioè munizioni vacanti che hanno fatto terra bruciata perché noi da oltre vent'anni non siamo più abituati a addestrarci ad una guerra convenzionale negli anni 80 si facevano grandi manovre a livello di brigate a livello di divisioni di corpi d'armata con la fine della guerra fredda dall'89-91 tutto questo è sparito in funzione di operazioni di supporto della pace di imposizione della pace insomma missioni di pace come li volete chiamare ma anche gli americani si sono diciamo di meno ma uniformati a questo sistema e i russi no i russi hanno continuato a divulgaggiarsi a sviluppare dottrine con tutti i limiti insomma di una superpotenza in decline per carità però hanno mantenuto quei livelli e in questo momento lo stanno dimostrando e hanno commesso grossi errori ovviamente nel primo anno di guerra ma hanno resistito a una superpotenza come quella americana che a parte soldati boots on the ground sul terreno hanno fornito di tutto agli ucraini hanno fornito tranne le porta aerei hanno fornito di tutto agli ucraini e così allora poi non ho scusato volevo dire una cosa conferma del discorso che aveva fatto prima di zato Tagliani ha risposto a Macron ha detto ha detto no no gli ha detto proprio lo escludiamo cioè gli ha proprio risposto praticamente in contemporanea non ho capito Tagliani ha risposto a Macron ha risposto a Macron e gli ha detto lo escludiamo pure stavolta usciamo dalla triplice alleanza vai Antonio Tagliani smarca l'Italia da Macron sto vedendo aspetta che l'ho prietto proprio in diretta così qua vedete c'è questo escluso l'invio di truppe italiane a Kiev escludo l'invio di truppe aspetta che zoom un po' perché così lo vedono anche dalla chat escludo l'invio di truppe in Ucraina perché noi vogliamo la pace vogliamo che ci sia una trattativa ma non vogliamo fare la guerra alla Russia ma come mi sa che pagate i rubi non lo so sicuramente filo putiniano domani mattina immediatamente no è filo intelligente è filo intelligente no è filo intelligente perché come anche quando sì però perdonatemi questo però allora paradossalmente io vorrei fare un altro tipo di discorso perché rispetto a quello che è stato raccontato in questi anni alla vemenza con cui si è andati contro in ogni forma possibile dalle sanzioni ma anche alle dichiarazioni verbali che erano aggressivissime nei confronti della Russia mi sembra tra virgolette nella sua follia e nella sua inadeguatezza totale molto più coerente uno come il Macron che ritrovarmi un Tajani che fino all'altro ieri se gli potevano di peste e corna glielo avrebbero dette che improvvisamente fanno i passi indietro allora io sto vedendo che c'è un cambio di postura generico no per cui la provocazione continua poi si è risolta sempre non nulla di fatto noi in questi due anni ne abbiamo visti tantissimi di momenti in cui si poteva arrivare ad uno scontro vis-à-vis tantissimi incidenti il missile in Polonia per farne uno su tutti anche il Nord Stream stesso il drone sul cremlino ti ricordi? il drone sul cremlino furono tanti incidenti e tutte le volte chiamati a dover fare una scelta abbiamo sempre ci siamo sempre frenati questo perché la dimensione era già chiara che non avevamo gli strumenti per contrastare viso a viso la Russia ma neanche la volontà non solo gli strumenti la volontà la necessità ma dove sta scritto che la Russia minaccia l'Occidente perché lo dicono alla caccia minaccia però questo è quello che hanno raccontato di Fregnacci me ne ricordo tante però guarda che le dichiarazioni sul fatto che la Russia minacciasse l'Occidente se ne può riempire uno stadio anche soltanto a quelle che erano le dichiarazioni di governo che hanno sempre sostenuto anche loro adesso i fatti la storia giudica i fatti quindi c'è poco da discutere in due anni abbiamo fatto le sanzioni contro la Russia dato le armi agli ucrani addestrato il personale gli americani hanno coadiuvato anche sul terreno determinate operazioni come l'antiaerea o l'elettronic warfare oltre alle operazioni PSYGOPS e forse anche forse dicono non ne ho le prove operazioni speciali sul terreno oltre alle decine di miliardi che l'Unione Europea ha concesso all'Ucraina e poi magari i russi alzano la voce contro di noi ci stanno minacciando mi sembra al minimo poi non è manco anche relativamente all'intervista della minaccia io ho letto adesso non mi ricordo l'intervista a chi l'ha detta però mi ricordo durante quando è stata la ricorrenza del giorno della memoria non mi ricordo chi l'ha detta però l'intervista c'era di Chiaccio non me la ricordo dissero addirittura che il 7 ottobre era colpa della Russia perché ha fatto ha rinvigorito la credenza ad Hamas che l'Occidente è debole ah questo è sempre quelli del governo è il nostro governo questo è sempre quelli del nostro governo il 7 ottobre è colpa di Hamas perché aveva dimostrato che l'Occidente avessero trovato una cartuccia russa in mano a Hamas sarebbe stata l'apoteosi sì 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 perché avrebbero proprio costruito tutto al pennello la retorica perfetta però per questo io dico cioè dopo tutto sto casino dopo che hai creato tutta sta situazione alle brutte poi che fai fai sempre il passo indietro allora o veramente stai a sentire l'odore di Trump che arriva all'orizzonte e devi se stai proprio a riposizionare in una maniera incredibile oppure io non mi capacito perché siano andati così tanto avanti non è sbagliato Paola quello che sta dicendo magari Macron sta affiutando un vuoto di potere in Occidente perché Biden è mezzo rimbambito dalle direzioni di Trump che va a prendere con le molle perché non diamo troppi poteri a un presidente americano dice che beh si chiude a casa sua e non esce più e quindi magari lui si sente Macron si sente nelle possibilità di diventare il leader del mondo libero del mondo occidentale penso che e appunto ritornando al discorso al discorso iniziale cioè una grande magari un terzo in per dopo quello di Napoleone II non lo so stiamo avendo a che fare con gente in delirio di onnipotenza totale no non lo so si fanno si fanno ipotesi ma secondo me un presidente francese che dice che bisogna andare a combattere in Ucraina per me stai già nel delirio per me già sei dal GSEO sì 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 all'Eliseo deve arrivare l'ambulanza secondo me tra l'altro tra l'altro c'è tranquillo che ti veniamo a prendere stai calmo volevo tornare un attimo sulla questione Macron anche perché ce lo chiedevano dalla chat allora intanto cioè dobbiamo ringraziare altri tre abbonati nel frattempo che abbiamo fatto tutto questo discorso grazie mille a Tiziana Lazzeri o Lazzeri non so dove stia l'accento grazie mille a Nicolò Audino e Maura Mangieri nuovo membro io intanto che stavate parlando prima sono andato un po' su i trez diciamo di di X a dare un'occhiata questo chiaramente è uno solo ma se ne potrebbero vedere altri ho bloccato lo schermo solo su questo perché chi ci ha seguito nella scorsa live sa che abbiamo avuto arrivo arrivo calma calma che abbiamo avuto un brutto precedente con a forza di scorrere così in diretta senza senza aver sugliato la questione ho notato che molti commenti sembrano confermare l'impressione su cui stavamo discutendo prima ovvero il fatto che queste dichiarazioni di Macron potrebbero essere da interpretare come un tentativo di assumere la leadership in Europa se vado qui sotto nei commenti vedo per esempio questa è la nostra guerra e dobbiamo finirla dobbiamo combattere insieme e distruggere scontrollare vedi come suona bene come alla guerra suona bene più figo un grande aiuto poi vedi Francia Macron assoluta leggende poi qui in basso ecco un vero leader che emerge nell'occidente oggi ho ascoltato Macron sta diventando una leggenda ho ascoltato Macron e l'ho visto su google traduttore sul mio iphone e l'ho trascritto it was reviting scusatemi ma non so che cosa vuol dire i giornalisti l'hanno pressato ma appunto risposto in maniera forte e eloquente ha difeso le sue posizioni bravo il presidente scusate posso alzare il dedino ma si dimenticano che la Russia ha 6.000 testate nucleari no te l'ho detto quando ha fatto l'intervista bellissimo qualcun altro vuole negoziare sono trasecolati tutti dice no ho detto una cosa sconvolgente la polida vedi guarda Macron è leader dell'Europa vedi Macron è leader dell'Europa poi esatto tra l'altro un'altra cosa ci si è cascati proprio a pennello adesso ti do subito la parola Tiziano perché ci hanno fatto un'altra domanda proprio sulle questioni delle centrali nucleari non sulle appunto dov'è qua quindi si collega alla questione atomica ma Macron lo sa che ha 19 centrali nucleari attive sul territorio e quindi alla Russia bastano testate regolari prendere la Francia un inferno radioattivo e pensano davvero di fare rappresaglia colpendo le 10 russe che sono sul confine non farebbero più danno all'est Europa che alla Russia? ma qui ecco rimaniamo sempre nel campo delle assurdità ovviamente cioè colpire le centrali nucleari al confine con la Russia cioè ma stiamo veramente direbbero i napolitani ma stiamo pazziando ma qui veramente vogliamo scatenare una guerra nucleare cioè non ci siamo riusciti in quasi 50 anni di guerra fredda cioè ci riusciamo adesso in due anni qui veramente stiamo all'assurdità hanno tolto pure il 110% come te la distrutto di casa è vero come fai adesso come te la distrutto di casa è una tragedia bellissima questa bellissima ovviamente gli altri paesi europei si stanno tirando fuori e questo è normale era scontato e credo che tutto ciò non possa non avere ripercussioni nell'Unione Europea non non è è troppo importante come questione per dire ok mettiamola sotto facciamola a da passare la nottata mettiamola sotto il tappeto e poi non ne parliamo più ma qui veramente c'è rischio che salti tutto forse non sarebbe neanche un male sinceramente però noi come vi posso dire è normale che i paesi europei si tirino fuori da quello che sta dicendo Macron io prima che iniziasse la diretta avevo letto che la maggioranza parlamentare è addirittura a favore di di questo di questo intervento lui Macron parlava ovviamente solamente di francesi a questo punto se se vuole andare vada vediamo vediamo chi lo segue ma come dicevo prima sono gli stessi militari francesi che si stanno agitando e si stanno agitando molto non potrebbe poi innescare una reazione a catena nell'eventualità che ci va e non lo segue nessuno poi l'esercito francese poi diciamo è in difficoltà e chiede aiuto ci devono andare anche gli altri perché è membro nato no? quindi attenzione Paola l'articolo 5 che ricordo non comporta una risposta militare automatica e su questo i sovietici ci hanno giocato per 40 anni di guerra fredda dicendovi guardate che gli americani non verranno mai ad aiutarvi e secondo me non ci avevano neanche torto come quando lo dicevano si tratta di un discorso comunque difensivo non offensivo l'Ucraina non è Nato non è Europa non è Unione Europea l'Ucraina è uno stato fallito tenuto in piedi dagli occidentali con le sovvenzioni occidentali che resiste ancora perché l'Occidente lo tiene in piedi anche da un punto di vista militare perché altrimenti l'Ucraina non avrebbe alcuna ragione di essere quindi questo l'articolo 5 non vale se muoriono soldati francesi in Ucraina perché non è territorio nato non è stato attaccato un paese membro dell'alleanza e comunque anche se fosse attaccato un paese membro dell'alleanza quanto scritto nell'articolo 5 non non obbliga a una risposta militare automatica io dubito sempre in questi tempi quindi l'Italia potrebbe dire secondo i interessi nazionali in questo momento ci sarebbe il fuggifuggi generale chiaramente lo capisco anche perché però io dubito che non ci sarà appello capito perché comunque in questi tempi noi abbiamo imparato che tutto quello che è scritto nella carta è carta straccia signori a parte non finiamo mai una guerra con chi l'abbiamo iniziata questo verissimo lo dicono gli inglesi di noi quindi non è un problema noi non è quello che cambiamo subito l'alleanza non è un problema a parte le battute veramente stiamo proprio fuori dalle logiche delle relazioni internazionali ma anche delle dell'alleanza qui assolutamente adesso si sta svolgendo una della più grande esercitazione NATO in in Europa che interessa diversi paesi anche del nord Europa della Scandinavia non ci dimentichiamo che la NATO si è allargata ulteriormente nell'ultimo anno sono entrati sia la Finlandia che la Svezia secondo me un grossissimo errore perché innanzitutto questi due paesi che non erano neutrali erano non allineati il neutrale c'era Svizzera però ovviamente questi sono termini da guerra fredda post guerra fredda non hanno avuto più senso quindi il non allineamento si è confuso con la neutralità diciamo anche l'India per esempio durante la guerra fredda era un paese non allineato non neutrale ma non allineato infatti intrateneva relazioni sia con gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica e secondo me queste due nazioni hanno fatto un grosso errore perché facendo così hanno perduto la loro autonomia un'autonomia decisionale che noi purtroppo dalla seconda guerra mondiale non abbiamo più conosciuto quindi neanche noi ce la ricordiamo ma è un livello ancestrale dei nostri bisnonni di persone che non esistono più che sono morte quindi non sapremo neanche spiegarcela ma loro ce l'avevano un'autonomia e progressivamente la perderanno anche perché l'Artico quindi il mare del nord diventerà il prossimo terreno di scontro perché visto i cambiamenti climatici e quindi l'aumento delle temperature i ghiacci si stanno assottigliando e lì sotto ragazzi è pieno di gas e di petrolio e già i russi da anni hanno istituito due brigate specializzate per la guerra nell'Artico e hanno allestito mi sembra quattro rompighiaccio a produzione nucleare e gli americani sono indietro stanno creando con i canadesi con i norvegesi anche con gli islandesi una sorta di forza artica proprio per contrastare sia i russi ma anche i cinesi visto che anche la cina è una superpotenza e quindi sa benissimo che là ci sono grossi giacimenti quindi nei prossimi decenni quel luogo diventerà terreno di scontro e infatti non a caso gli americani hanno spinto fortemente per far entrare sia la Svezia che la Finlandia nella Nato in modo tale da chiudere il cerchio della Scandinavia adesso in quella zona vedete la cartina dietro di me è tutto praticamente il mare del nord è diventato un lago della Nato lì è tutta Nato adesso quindi tutto assoggettato agli interessi americani quindi non necessariamente il terreno di scontro dovrà essere o potrà essere l'Ucraina ma potrebbe essere fra qualche anno fra un decennio fra un ventennio un ventennio addirittura l'Artico come terreno come pensi che reagirebbe diciamo l'altro l'altro blocco se vogliamo le altre superpotenze a questo se si dovesse spostare il campo di battaglia o il campo di interesse comunque come reagisce una superpotenza quando vede che i suoi interessi non vengono rispettati reagisce le superpotenze Roberto fanno così diritto internazionale ne frega poco il diritto internazionale è per i piccoli stati esatto le superpotenze lo fanno loro il diritto sono loro i detentori del diritto perché c'è solo un diritto nella storia che ha prevarso su tutti gli altri il diritto delle armi il diritto del più forte certo perché la guerra è un rapporto di forza ed è un rapporto tra stati ed è un rapporto tra stati e il problema del ventesimo secolo è stata la criminalizzazione della guerra a partire dalla fine della prima guerra mondiale con la messa in stato d'accusa il tentativo di messa in stato d'accusa da parte degli Stati Uniti del Kaiser di Guglielmo II quali criminali di guerra cosa che ci sono riusciti adesso con Putin e con tutti gli oligarchi e poi si è completamente degenerato addirittura anche cittadini russi normalissimi sono stati non dico perseguitati ma comunque lesi nei loro diritti negli Stati europei dell'Unione Europea secondo me a conferma del fatto che non conta nulla in realtà pure tutta questa roba qua è il fatto appunto che Putin criminale di guerra ad esempio anche in interviste magari di cui parleremo anche dopo si fa molto ricorso al fatto che il tribunale dell'AIA ha condannato Putin come criminale di guerra eccetera eccetera però mi risulta che anche Netanyahu in questo momento sia condannato dallo stesso tribunale dell'AIA però tutti quanti se ne fottono proprio allegramente quindi è confermare il fatto di nuovo che noi i criminali di guerra li intercettiamo laddove ci fa comodo perché poi dove gli stessi tribunali condannano altre persone che invece sono a noi vicine o amiche noi decidiamo di potercene cioè l'anno scorso era un no Gutiérrez era un dio l'anno scorso perché quando parlava di Ucraina e condannava Putin tutti quanti si portavano ma la stessa ONU che abbiamo sempre riconosciuto essere ormai un'organizzazione strasuperata dove non vale proprio il principio perché se dei membri permanenti basta che uno alza la mano impone in veto cioè mi pare proprio un'organizzazione fino a se stessa che non ha più senso di essere no? mi pare evidente carrozzone burocratico funzionale però con la guerra in Ucraina tutti si appellavano all'ONU capito? tutti ci si appellavano quando parlava come doveva parlare oggi che parla nella direzione che a questi non gli piace e l'ONU non conta niente quando quando sta in difficoltà ti appelli pure a Gesù Cristo ma non non mi pare che aiutano nessuno assolutamente praticamente appellarsi all'ONU è un po' come quello sì 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 allora fermi fermi un secondo perché devo leggere assolutamente due commenti se l'ONU era una transizione verso le questioni del Medio Oriente cioè va benissimo adesso ci arriviamo però prima dobbiamo chiudere con questi commenti qua allora prima ce n'è uno che non ho capito se si riferisce a noi o a altri boh che ho letto prima siete ormai 99 blogger influencer che di tutti la stessa cosa se viniste vincereste le elezioni europee invece vi date l'uno con l'altro non c'è speranza e questo è il vero problema saluti non ho capito se ce l'ha con noi con degli altri George Parma se sei ancora in chat scrivici perché davvero non ho capito che cosa ti stai riferendo ma il problema è che non c'è interesse di fare le di fare che cosa le due falle europee a parte che io non c'è interesse a fare le europee ma a parte poi non ti candidi no per ora ancora no grazie ho deciso come disse d'argento amico ho commesso tanti peccati orribili nella mia vita ma la politica non è uno di questi poi c'è una domanda che ho promesso assolutamente visto che tra l'altro ce l'hanno fatta con la donazione il grandissimo Claudio come sempre che ci chiede Tiziano l'intercettazione dei quattro super ufficiali tedeschi che vogliono bombardare il ponte russo ma quelli sono discorsi fra di loro cioè non lasciano il tempo che trovano e chissà quanti militari hanno parlato di ipotetiche operazioni secondo le loro i loro punti di vista no per come risolvere la guerra o come infliggere danni gravi alla Russia secondo me non è nulla di significativo ah no aspetta c'è risposto Jorg Parma chiaro che ce l'ho con voi non mi sembrava difficile con voi e con tutti gli altri il commento mi sembrava chiaro ti posso assicurare che qui dentro per quel che so io nessuno si vuole si vuole candidare facciamo un podcast facciamo informazione posso dire ma perché poi questa gente chiede risoluzioni politiche a chi politica non la fa non la fa e poi quando deve andare a votare applaudono è buono no ma poi oltre quello c'è pure un discorso lasciate di lavorare no a parte lasciate di lavorare però c'è pure un discorso di fondo che noi non abbiamo il minimo interesse di metterci in politica perché quello che noi vogliamo fare è essere svincolati dalla politica per poterla prendere per il culo la politica in tutte le sue contraddizioni quindi noi vogliamo essere semplicemente quelli che puntano il dito da fuori né più né meno ora io non capisco perché c'è sempre questo atteggiamento nel cercare una rappresentanza in qualcuno quando in realtà il nostro scopo è quello che il cambiamento eventualmente ci fosse ma vedo che non è manco minimamente non siamo nemmeno lontanissimi dall'obiettivo cioè proprio non lo vediamo nemmeno dovrebbe essere un cambiamento dal basso noi abbiamo soltanto a cuore che a voi vi arrivi una campana diversa da quella che vi arriva costantemente dalle televisioni quindi attraverso che deve essere diversa quello si può fare eh sì perché oggettivamente è quello oggettivamente è quello solo chiacchiere però anche quelle poche chiacchiere che possano aiutare ma poche chiacchiere dove cioè stasera ci sono stati un sacco di spunti importantissimi per esempio anche le questioni dei pesi baltici delle riserve di gas che si nascondono sotto il ghiaccio eccetera cioè io sono sincero questa scheda grazie a Tiziano per esempio tutte le cose che sono state dette prima le altre che dobbiamo ancora dire quindi oh infatti ci stanno poi questi sono i primi che se tu un domani c'hai voglia di andarti di vabbè voglio fare qualcosa mi voglio candidare a merda o facevi solo per piatta il posto in Porto perché siamo così capito siamo proprio questa è proprio la definizione di italiano standard questo è quindi che ti devo dire sì va bene ci odiamo tutti potevamo vincere l'Europa invece stiamo a parlare come quattro stronzi entranco più che ti devo dire purtroppo è andata così eh so quei casi della vita adesso eh il discorso delle elezioni il discorso europeo che eh certe volte noi ci indudiamo di poterci autodeterminare no? che il nostro voto conti che i nostri governi eletti nelle varie forme la repubblica parlamentare italiana con la repubblica semipresidenziale eh francese ma eh poi alla fine eh l'ultima parola sta sempre dentro una casa bianca eh quindi eh ma se vede benissimo anche dai governi che si sono succeduti qui in Italia tutti quanti dovevano fare ferro e fuoco per un verso per un altro alla fine tutti allineati al diktat perfettamente anche le opposizioni eh poi il famoso dossieraggio capito ti tirano fuori quella foto compromettente che si sono stipati nel carsetto da decenni e tu crolli miserevolmente come è sempre stato e sempre continuerà ad essere quindi che a meno che a meno che tutti i paesi europei eh si mettano insieme e grazie comunque alle capacità economiche grazie comunque a le nostre capacità tecnologiche che ci sono ma non vengono sfruttate adeguatamente ci costituiamo come una superpotenza ma questo è molto complicato è molto lungo perché dovremmo fare una sorta di confederazione eh dice di più Stati Uniti d'Europa eh no ancora diciamo diversamente gli Stati Uniti sono una federazione noi dovremmo essere una confederazione dove eh la nostra unione è finalizzata verso l'esterno cioè imporci verso l'esterno come superpotenza che detto così potrebbe sembrare facile ma è estremamente estremamente complicato da da realizzare no e come li metti tutti quanti insieme è impossibile no anche perché anche perché dovrebbe esserci una continuità geografica tra i vari Stati e comunanza di intenti comunanza di obiettivi voi ce la ce la vedete ce la vedete la Francia che mette a disposizione di una confederazione delle proprie armi nucleari no no per niente eppure senza di quelle eh come dico sempre io ti siedi al tavolo dei cuginetti dei bambini sì 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 con il piatto del plasso e patatine mi sa che ha scritto un altro messaggio non so se l'hai visto chi Jorg sì Jorg cosa ha scritto ah Giorgio questo Giorgio Bianchi Radio Radio Biblio Orsini Battista dicono tutte le stesse cose che dite voi continuate pure a parlare eh vabbè capito Giorgio aspetta posso dire una cosa poi mi taccio eh Giorgio ringrazio che c'è l'ospite quando ci sono gli ospiti io faccio il bravo dopo ti rispondo dopo ti risponde dopo si risponde appena sono cinque minuti che l'ospite non è male dopo mi sono salvato mi sono salvato un altro commento così dopo ti ti carichi dopo meno male che qualcuno parla perché pensa che cosa succederebbe se tutti stessero zitti eh bravo bravo diglielo quello che possiamo fare è parlare poi siamo comuni mortali eh non possiamo eh salvare il mondo non è il nostro ma anche che sia giusto quello che diciamo noi lo diciamo in tutta coscienza e in tutta onestà questo sì questo lo posso lo posso sinceramente dichiarare ma non è che siamo perfetti eh no questo indubbiamente però quello che facciamo almeno parlo per me ma sono sicura anche che per voi deve essere coerente anche con la propria persona cioè io la notte quando vado a dormire devo sapere di andarci con la coscienza pulita di aver detto e fatto cose in coerenza con la mia persona la coerenza della mia persona in questo momento è cercare di fare divulgazione su informazioni che altrimenti voi non reperireste da nessun'altra parte perché la televisione non ve ne parla perché la maggior parte dei creatori di contenuti di canali youtube sono altrettanto allineati tanto quanto la televisione e si vede pure dalle carriere che fanno alcuni chi imbocca la strada giusta e chi quella sbagliata il caso Iorit di recente vi dovrebbe aver fatto capito benissimo che finché tu martelli la linea che va bene vieni portato qua sul piedistallo e poi appena te ti disallinei te buttano giù dalla rupe quindi io siccome voglio né star sul piedistallo né essere buttata giù dalla rupe voglio essere libera e il mio modo per essere libera utilizzare i social e parlare sui social punto non c'ho né altre ambizioni né altri scopi è letteralmente quello che voglio fare tra l'altro scusami un attimo se ti interrompo il lavoro che facciamo noi è fondamentale nel primo momento che ti trovi in un paese dove certe informazioni vengono trasmesse e altre no perché io sfiderei appunto vorrei fare un sondaggio tra le persone della nostra chat non andrebbe neanche troppo bene perché col fatto che ci seguono potrebbero averle viste da noi vorrei fare un sondaggio in generale in italiani tra tutti gli italiani e vedere in quanti hanno sentito parlare per esempio degli stessi funzionari americani della stessa stampa comunque internazionale gli stessi giornali americani che hanno detto che per esempio per l'Ucraina nel 2024 non è prevista la riconquista dei territori ma solo di limitare il più possibile le perdite vorrei sapere in quanti hanno sentito in questi giorni tipo di degli articoli che proiettavo anche prima del New York Times ma li posso riproiettare anche adesso no? dov'è? ho sbagliato dove ce li ho qua tipo questi cioè le nuove armi statunitensi per l'Ucraina aiuteranno per un po' quello che dicono i funzionari di intelligence che ci saranno nuove perdite la questione per esempio anche degli F-16 che volevamo chiedere anche a Tiziano potrebbe schierarle ma solo pochi cioè queste informazioni voi le sentite dalla stampa italiana europea sì o no? voi ma in generale andrebbe fatta arresto gli italiani questa domanda perché secondo me no e dal primo momento che c'è una stampa che fa il filtro di certe notizie in base a quello che o è comodo o in base ai loro interessi non importa quali siano è evidente che si rende necessario fare un altro tipo di lavoro imparziale indipendente scollegato da qualsiasi politica o ideologia come quello che facciamo noi quindi questo è lo senso della scialuppa e della ma io non ho questa rappresentanza politica che la devono sempre fare l'altro sono l'altro che devono fare l'altro che devono risolvere l'altro che devono parlare l'altro che allora omo veder culo fa la te la rappresentanza chi te lo impedisce Jorg scusami proponiti come come leader di un partito fallo crea lo fondalo chi te lo impedisce te voto te voto se lo fate voto perché dovete sempre delegare la responsabilità a qualcun altro state sempre aspettare sto messia che casca sto deus ex machina che casca da fuori cioè fate io non vi vedo però nelle piazze a protestare contro i governi visto che penso che vi riconoscete in quello che diciamo no? perché altrimenti non starete qua a seguirci o almeno la maggior parte perché poi ci sarà sicuramente chi ci segue per piace per culo ce lo metto un conto non è che no però mi farebbe tanto piacere vedervi visto che ci avete tante rimostranze nei nostri confronti io però non vi vedo protestare contro i governi non vi vedo chiedere risposte alla politica che voi votate a voi Paola vogliamo aggiungere le stesse live dove le prendevamo queste persone dicevamo venite vi diamo il link per la chiamata queste persone non entravano mai i soliti leoni da tastiera che gli spammi il link non entro non capisco proprio la rimostranza che se dovemo candidare per forza perché altrimenti insemmo credibili fatelo voi io ho altri pensieri ma non sto qua a dire ma assolutamente no guarda che poi se posso permettermi scusa Tiziano ti do subito la parola se posso permettermi cioè io penso almeno questa qua è la mia opinione che la politica sia anche lo specchio del popolo cioè c'è un problema evidentemente è palese aspetta che Jorga gli ha bruciato il culo che ho fatto centomila iscritti Jorga che ce va a fare mi dispiace non sono io che ho aperto un blog con centomila iscritti quindi guardi che sei assegnato il momento in cui abbiamo fatto centomila iscritti mi dispiace Jorga purtroppo così va che ce va a fare mi dispiace adesso ho capito perfettamente qual è il bruciore purtroppo sono quei bruciori che ogni tanto nella vita uno si deve tenere che te devo dire fattene una ragione approfittiamone per farne i complimenti a Paola per il suo lungo lavoro che appunto ha spostato i cento Jorga 101 mila quasi 102 pensa che bruciore mamma mia esatto e poi comunque quello che stavo dicendo con la politica che certo noi abbiamo un problema per quanto riguarda la classe politica ma secondo me la politica è anche lo specchio del popolo quindi quello che noi stiamo cercando di fare in live come quello di questa sera ma in generale con il nostro lavoro è quello di fare una divulgazione appunto vuoi chiamarla etica indipendente imparziale che appunto aiuti il popolo e vada almeno topicamente sarebbe quello l'obiettivo a cercare non di sistemare ma di migliorare il problema cioè la mia idea è proprio questa la politica è lo specchio del popolo finché non cambi quello in politica avrai anche una questione di probabilità visto che prima qualcuno vedeva nei commenti che parlava diceva spotteva il matematico così è anche una questione di probabilità se nel popolo hai tantissime persone che vuoi per ignoranza vuoi perché purtroppo non è colpa loro non gli arrivano le informazioni giuste per sviluppare certi tipi di ragionamenti ma comunque sono abituato a un certo tipo di realtà dopo queste persone poi te le trovi anche all'interno della politica e quindi è perfettamente normale vai Tiziano scusami che ti ho interrotto no prego prego volevo semplicemente dire che ormai stiamo confondendo i social con la comunicazione politica addirittura con la politica stessa questo perché perché ormai la politica non ha nulla di più di concreto non incide più nelle vite delle persone ed è diventata unicamente comunicazione i post i quiz quindi è facile adesso pensare che un blogger un youtuber che magari abbia un seguito a 100.000 iscritti 200.000 iscritti automaticamente diventi voti li trasforma in voti capito diventino voti e diventa un soggetto politico non è così ognuno fa il suo lavoro ognuno deve fare quello per cui si impegna se ci sono persone che come Paola che fanno usano il web usano il canale youtube o facebook per informare per dare un altro punto di vista il che non vuol dire che debba essere per forza per forza il vangelo ma comunque ti permette di avere una visione differente da quelli che sono i canali tradizionali no? uno si può porre delle domande si può chiedere ok ma Paola dice questo il tg5 dice quello la mentana sulla 7 dice quell'altro ok ma fammi un po' andare ad approfondire fammi un po' capire ma questo non vuol dire per forza che si debba costituire un soggetto politico solo perché io magari ho un canale seguito e allora invece di fare chiacchiere devo farmi partito politico andare al governo andare in parlamento questo non vuol dire assolutamente nulla ognuno deve fare quello che si sente di fare e impegnarsi al massimo nel lavoro che ha scelto nel lavoro che ha scelto Salvatore ha fatto un commento 100k di iscritti non sono 100k di voti altrimenti al governo ci sarebbe Ciccio Gamer ti amo Salvatore non pure la Ferragna all'epoca infatti si erano cagati sotto era la leader indiscussa cioè 20 mandati di seguito è bionda è bionda pure lei sì in effetti avrebbero potuto fischiarsi mescolarsi io io mi sono accorto del cambiamento dal governo Draghi perché ho guardato ho visto una ragazzetta bionda perché no mia me l'ha raccolto no 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 eh gli danno pure il premio eh gli danno pure il premio come a Draghi lo stesso premio lo stesso premio che Deidero a Draghi un po' di tempo fa vabbè leggo l'ultimo commento perché cioè l'ultimo commento per ora continuate a farne se ne avete domande poi le leggo dico l'ultimo commento di quelli che mi ero salvato perché appunto è un commento con donazione non scherzo tra non molto ci mettiamo in intelligenza artificiale e probabilmente sarà la nostra salvezza allora l'intelligenza artificiale per certi versi può essere un'arma potentissima per quanto mi riguarda per altre parti nonostante sia artificiale secondo me può essere molto più intelligente di altre persone che ci troviamo nelle istituzioni poi non vado troppo a precisare allora andiamo un attimo facciamo un attimo il punto sulla questione Medio Oriente Mar Rosso perché dobbiamo dobbiamo spiegarle abbiamo purato abbiamo purato Tiziano anche qua apposta per per questo anche perché se no ragazzi sta live è eterna e noi non vogliamo sequestrare Tiziano tutta tutta la serata un'ora e mezzo di sequestro esatto giusto una decina di minuti direi sul Mar Rosso che idea ti sei fatto quanto è costato abbattere quel drone subito a bruciapelo quanto costava il drone quanto è costato abbattere no ma abbattere non è costato molto perché hanno utilizzato munizionamento convenzionale e almeno il super rapido questo lo sa fare anche se come sono mortisanno io sono molto critico sugli equipaggiamenti delle forze armate ma un minimo di operatività c'è tra l'altro ieri il messaggero per parlare proprio dell'armamento del Duilio ha citato un mio articolo di due anni di tre anni fa prendendo solamente i dati tecnici tralasciando le critiche espresse anche in quell'articolo giustamente quello che serviva no quello che andava che si ammuffava vai 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 quindi diciamo che i costi Beppe sono sono bassi non non è un discorso di di costi e quello che voglio dire io è che diciamo che eh inizialmente iuti non non volevano attaccare il il traffico marittimo mercantile occidentale stavano attaccando le navi che andavano in Israele e dopodiché gli angolo americani hanno diciamo calcato la mano hanno fatto un'escalation e quindi attaccando anche eh territorio yemenita eh le postazioni missilistiche eh facendo quindi strike o deep strike eh con velivoli e missili di Tomahawk e e da lì è aumentato ovviamente il per le eh i convogli che sono diretti verso il canale di Suez che insomma è insieme allo stretto di Cibilterra come sappiamo sono le porte d'accesso per il Mediterraneo e che quindi noi per forza di cose dobbiamo dobbiamo tutelare e ora sinceramente non non attaccherei un cacciatore periniere da 7000 tonnellate con un drone un cacciatore periniere da 7000 tonnellate è un obiettivo da da missile antinave anche da balistico eh a me sembra che stanno un po' saggiando le le difese dei navi occidentali fin dove si possono si possono spingere una cosa non ho capito se gli americani hanno deciso di rovesciare le milizie sciite presenti in Yemen ma se dovessero far questo mi restano di un impegno ben più massiccio di quello che stanno attuando ora e nell'anno delle presidenziali non credo che si impegneranno in questo ora pur come ho detto prima non dobbiamo dare troppo troppi poteri al presidente americano però dovremmo vedere con il penso ormai scontato non dico niente di eclatante cambio di inquilino alla Casa Bianca anche la questione del Mar Rosso come come si si posizionerà insomma non credo che insomma si possano permettere né Biden né il prossimo inquilino della Casa Bianca che probabilmente sarà Trump di avere tre fronti aperti insomma è troppo anche per per gli Stati Uniti sicuramente e tu pensi che Trump rinuncerà a quello potrebbe rinunciare eventualmente a quello medio orientale dipende dal dal Senato i moderi non sono così assoluti sono anche per esempio fare un esempio sono di più quelli del Presidente Francese quindi dipende sempre dal dal Senato e come lui riuscirà a incidere su determinati decreti emendamenti non decreti perché i decreti li facciamo noi determinati emendamenti discorso molte sono frottole secondo me sono situazioni irrealizzabili come l'abbandono dell'Europa l'Europa per gli americani è strategica ma in senso fisico come proiezione della loro potenza non solo nell'Europa dell'Est ma nel vicino Oriente nel Nord Africa nel Sahel neanche un imperatore romano poteva modificare la strategia dell'impero figuriamoci un Presidente l'indirizzo strategico americano è quello egemonico a livello mondiale il Presidente non è in grado di modificarlo può fare degli aggiustamenti ma se andiamo a vedere la storia partiamo dalla fine della guerra fredda Clinton Bush Obama gli indirizzi strategici sono sempre stati quelli non sono cambiati di controllo di posizionamento strategico in determinate aree del mondo controllo degli accessi ai mari agli oceani essenziale per la globalizzazione la globalizzazione esiste perché gli americani tengono aperti gli accessi marittimi solo per quello esiste altrimenti non esisterebbe la globalizzazione le merci non viaggerebbero da nessuna parte vediamo che il 90% delle merci mondiali viaggiano sul mare se gli americani chiudono gli accessi come dicevo prima lo stretto di Suez piuttosto che lo stretto di Gibilterra o altri stretti tu non non commerci più perché c'è poco da fare e tutte e la maggior parte delle merci del mondo vanno negli Stati Uniti poi tra l'altro allora ci stavano chiedendo dalla chat che ho visto una certa ricorrenza per questa domanda gli iuti hanno missili ipersonici si parla di missili ipersonici in mano gli iuti a fondamento questa notizia e appunto già che ci siamo oltre a rispondere a questa ti chiedo io quali sono le disponibilità a livello di equipaggiamento militare appunto per quanto riguarda gli iuti quanto possono competere ma allora per quanto riguarda i missili i supersonici ipersonici sicuramente il partner principale degli iuti che sono milizie sciite sono gli iraniani e tutto l'armamento missilistico è stato fornito da loro anche la tecnologia per modificare determinati sistemi magari per trasformare missili aria aria e missili superficie a superficie con i quali negli anni passati hanno attaccato anche l'Arabia Saudita e hanno inflitto diversi danni anche ai loro pozzi di estrazione petrolifera ci sono stati vari attacchi in territorio saudita da quando dal 17 hanno iniziato una guerra insomma per eliminare la presenza sciita in Yemen e quindi nella penisola Yemenita hanno in dotazione sicuramente missili cruise antinave e missili balistici li stanno cercando qualcuno probabilmente è stato colpito da come dicevo prima dagli strike in profondità angloamericani quindi però qualcun altro secondo me sono stati salvati il discorso è che bisogna vedere quali sono le loro intenzioni perché le loro intenzioni erano ovviamente essendo alleati con gli iraniani di attaccare tutto ciò che andava in Israele c'era poco da fare sono nemici degli israeliani sono nemici degli israeliani e quindi i loro alleati attaccano quello che è israeliano tutti gli obiettivi israeliani e ovviamente qui adesso l'escalation è salita c'è stata un'escalation e bisogna vedere come dicevo prima quanto gli americani sono disposti ad imperniarsi per fino a che livello insomma per diciamo limitare o annullare anniquilire la minaccia degli uti questo io non lo so non lo posso prevedere perché siamo appunto come abbiamo detto nell'anno elettorale chiaro non credo che Biden vorrà lasciare i tre fronti aperti alla Casa Bianca e non credo sinceramente che pensi veramente di essere rieletto a quell'età e in quelle condizioni mentali allora ci ha fatto anche una domanda tecnica sulla risposta che stavi appena dando allora Claudio prima ci aveva scritto ma quindi cosa sono esattamente i missili ipersonici e poi ci chiede sono così pericolosi per via della grossa energia cinetica o l'ipersonico serve solo per non essere intercettato ma guarda i missili ipersonici sono missili in genere aria superficie o superficie superficie che hanno una velocità superiore a Mach 5 fino a Mach 5 quindi stiamo parlando di circa 5200 km orari fino a Mach 5 vengono considerati missili supersonici sopra Mach 5 si chiamano ipersonici non serve neanche una testata perché se tu colpisci una nave anche di grosso tonnellaggio a una velocità di Mach 7 Mach 8 basta l'energia cinetica per creare una palla enorme che fa rimbarcare un quantitativo assurdo di acqua certo la loro velocità gli permette di essere meno vulnerabili ai missili antiaerei infatti ci sono sistemi soprattutto israeliani come l'Arrov le ultime versioni l'Arrov 3 che è l'Arrov 2 che anch'essi sono a velocità ipersonica in grado di intercettarli molti specialisti dicono che insomma magari certi valori sono esagerati perché a determinate velocità diventa difficilissimo controllare un missile però proprio quello che dicevo all'inizio sul fatto del del riarmo o meglio degli armamenti che le forze armate delle varie potenze hanno sviluppato in questi ultimi anni ad esempio nel campo dei supersonici e degli ipersonici cinesi e russi sono molto più avanti degli americani adesso gli americani stanno facendo delle corse per recuperare il gap che si è venuto a creare in quel settore che nell'ambito bellico è fondamentale altre nazioni stanno facendo importanti sviluppi nel campo dei supersonici e degli ipersonici penso alla Corea del Sud al Giappone all'India al Pakistan in misura minore tutti tranne l'Europa noi rimaniamo al palo si sta muovendo qualcosa ma mentre gli altri sviluppano nuove tecnologie noi rimaniamo al palo e quindi penso che insomma nei prossimi anni avremo diciamo poca pochissima voce in capitolo nelle questioni mondiali allora ci fanno un'altra domanda dalla chat che ovviamente leggo perché è azzeccata e ovviamente inerente alla questione poi se ne hanno da fare i pub benissimo dopo direi che possiamo finalmente scagionare Tiziano che è stato con noi per tantissimo allora ci chiedono praticamente che cosa ne pensi della questione dei cavi sottomarini gli UTI possono colpire duro nei cavi sottomarini tu che idea ti sei fatto di quella questione? ma allora il discorso dei cavi sottomarini è essenziale perché parlavo tempo fa con un ingegnere specializzato proprio nella subacquea ingegnere della non so se posso dire la sua azienda di provenienza forse è meglio di no non lo dico perché è un'azienda privata diciamo molto importante ma diciamo molto affermata nel settore della subacquea anche a livello anche a livello militare e mi parlava mi diceva del fatto che tutti i nostri cavi di comunicazione reti internet e quant'altro passano per il Mediterraneo se qualcuno dovesse sabotarli lui mi ha detto proprio le sue parole torneremo all'età del bronzo ah proprio sì sì è verissimo quindi è un settore essenziale e purtroppo devo dire che la nostra marina è molto indietro in quel settore cioè dei unmanned perché ricordiamo che il Mediterraneo è un mare profondo attenzione non è un mare poco profondo è un mare profondo quindi occorrono apparecchiature particolari apparecchiature molto sofisticate per poter sorvegliare eh o poter comunque contrastare un'eventuale minaccia ai cavi sottomarini e servono eh veicoli subacquei a manned quindi dei troni subacquei per imparare poche parole eh noi eh al momento ne siamo ne siamo sprovvisti eh per quanto riguarda eh le capacità delle milizie sciite di poter eh colpire insomma questo i cavi sottomarini insomma lo trovo un po' un po' difficile ecco non credo che abbiano le capacità le tecnologie eh a meno che non gli vengano fornite gli iraniani o che lo facciano direttamente loro eh questo non lo so dire eh questo non ve lo so dire eh però certo mh è sicuramente un problema non da sottovalutare abbiamo visto insomma due anni fa il Nord Stream eh come è stato colpito e vabbè lì comunque si diciamo che è stata un'operazione abbastanza diciamo non convenzionale ovviamente ma non da parte dei russi non sono tra i certi russi a farlo eh quello quello per le persone con un minimo di di cervello come noi era esattamente era chiaro era chiaro sin da subito allora direi grazie mille a Tiziano Ciucchetti per essere stato grazie a voi questa sera questa sera con noi oltre c'è l'olo devo fare mi hai distrutto le orecchie sì fortissimo è vero spero che le persone che ci stanno seguendo non l'abbiano sentito così forte rimanete rimanete collegati perché adesso stiamo schagionando Tiziano ma ci scateniamo ci sentiamo quello ma adesso adesso vedrete ne abbiamo comunque me lo vedo l'arretrato di Beppe dai benissimo allora grazie mille a Tiziano Ciucchetti per essere stato qui con noi grazie a tutti quanti che hanno seguito questa sera ringrazio tutti quanti grazie mille e ovviamente a presto grazie mille Tiziano a voi ciao ciao buonanotte ciao ciao eccoci qua allora c'era Peppe che si stava scaldando prima dai pagate prima voi anche nelle mani no 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 mi sono salvato mi sono salvato un commento apposta che non abbiamo letto come sono i preferiti guarda brava brava offendi offendi chi ti fa notare la verità mi raccomando che sennò poi perdi dei like no prima mi ha detto pure che è meglio che non parlava perché se non mi sputtanava sono tutta orecchie ma cosa è tutta sta gente che dice meglio che meglio che non parlava allora no lei sape io penso chi è no ultimamente scrivici su telegram dai che ti facciamo entrare la pagina la pagina di un vecchio posso dire ma non attribuire verso magari non è non si tratta di questa persona in questo momento noi ne abbiamo tanta di gente che ci odia ma proprio tanta di gente che ci odia quindi potrebbe essere letteralmente chiunque però se la rimostranza ho notato cioè se il massimo della rimostranza perché non ti cambi di politica cazzo potete fare di meglio ma vai da quelli che ci vengono il panettone vai da quello quelli e voi volete sta gente qua perché uno uno sai che dovrebbe no uno così voglio rispondere in maniera seria proprio senza che faccio lo stronzo perché poi questi qua che vengono e attaccano poi gli dici che stronzo dice io ti vado a quello io ti guardalo io ti guardalo fanno tutti poi le femminucce faccio uno per dire sì magari mi mandio mi voto e mi mangi i sordi proprio così e ti dico sempre se tu sei come uno stronzo fai sì che tiene ragione poi tu gli vai sul palco ogni tanto gli dici dittatura c'è la dittatura militare poi c'è la dittatura sanitaria militare tu bravo compra del panettone compra del panettone vieni allo spettacolo a piacere compra di miei integratori vieni al mio spettacolo bravo vieni al mio spettacolo che ci amo ti metto il culo nella testa che ti sei comodato con i soldi di uno stronzo che ti ha detto che bravo però che bravo sei forte sei il mio fil è il ragazzo di fil tra l'altro altro argomento sulla questione macchine elettriche anche lì no dico avete tirato fuori un punto importante che vabbè apro e chiudo parentesi ma anche sulle macchine elettriche stanno facendo un bel dietro fronte in questi mesi che hanno fatto e lo continueranno a fare poi lo affronteremo nella live giusta ho visto stamattina che martellavano tantissimo ma tanto per me finché c'è sulla questione di guerra con la faccia come il culo mi possono parlare di green guarda cioè per me è proprio un'equazione cioè proprio qualunque cosa dicano sono cazzata a prescindere però dicevo prima Peppe Fariseo rispondi pure a me prima c'ero dai fatemi sotto vado uso una vecchia frase tipica della guatteria napoletana ottocentesca sotto a chi tenevo ora no vabbè a parte questo stavo dicendo eh o se prima ci stava facendo una domanda che ci ha fatto tre volte e diceva perché non mi rispondi perché non mi dici tu lo sai ma vabbè illustiamolo anche a quelli sennò che cazzo mi candido cioè i miei argomenti è Davos Bill Gates dimmi qual'è agenda 2030 2030 grafene 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 votatemi li elimino li elimino tutti rettiliani non avrai concorrenza io elimino tutti saresti il king assoluto ma poi questi non sanno molte delle cose che in che senso che vuol dire molte delle cose di che cosa delle abboccate all'amo le fai tu un tipo fai girare i post falsi su telegramma così in live no lo dichiara proprio in live così vabbè ma Peppe si diverte Peppe diffonde le fake news le teorie del complotto sui canali telegram secondo me le diffonde le teorie del complotto sono convinta non me lo dirà mai ma io sono convinta è quel tipico commento è quel tipico commento che scrive raga ma l'avete mai notato quella cosa è coincidenze io non credo no anche perché io ho un'invidia e questa cosa la devo dire io ho un'invidia perché hanno fatto due due teorie la seconda mi manca sì che c'è la stanza quello di youtube ah bellissimo sì ho scoperto da poco io voglio no aspetta fammi finire io allora devi sapere che io amo io amo internet che tu non hai proprio idea io mi riempio eh ho il suo modo di rispondo tranquillo mi riempio di merda mi piace il trash mi piace la cafonata mi piace proprio la magia della merda che si respira su internet proprio ah che bello ah che bello oh de merda oh de merda e quando ho visto che hanno creato due teorie del complotto su paola io ho sofferto di un'invidia che tu non ne hai proprio idea cioè io desidererei una teoria del complotto su di me che qualcuno dice la prima era bellissima Peppe il compagno di Paola è un alieno io lo desidererei la prima era bellissima quella sull'el la seconda la seconda vabbè la seconda gode di poca fortuna perché non lo conosce nessuno e aveva nessuna visualizzazione su un video la giustezza una visualizzazione è modata a noi praticamente eh bravi che tosse sono film e tosse beh in realtà è film qual è sta teoria del complotto non ho capito dai non ci tenete così sulle spine hanno preso i video quando Paolo è andato da Radio Radio hanno preso altri video di Paola e hanno fatto un un detto qua c'aveva tot follower qua tot perché si chiama l'imbannabile perché a lei a me mi bannano e a lei no mistero chissà chissà farà parte anche lei dell'agenda 2030 punto di domanda ma dov'è sta roba ma proiettiamola in diretta cioè mandamela Paolo non gli vuole dare non gli voglio dare noi gli diamo visualizzazioni veramente al 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 decelebratesimo proprio dai bisognerebbe bisognerebbe scaricare scaricare il video guardare il video e basta cioè non lo faremo la prossima live giuro la manderemo quindi la faremo c'era ancora quella della la prima teoria del complotto penso di sì dove sta è su Telegram così ci vendichiamo anche di tutti i freebootter tutta la gente che scarica il video per una volta lo facciamo noi la prima teoria del complotto era della dittatura militare che io volevo impostare la dittatura militare passiamo una serata bellissima ah sì è vero è vero quella con Vannacci che io volevo sì che io siccome Vannacci mi aveva citato in un video cioè mi aveva citato in televisione perché gli avevo fatto il video e e poi non so che altro noi avevamo fatto la diretta con Filomeni allora era palese evidente che c'era o io ero una tipo una testa da riete per ristaurare la dittatura militare in Italia beh io sono perché poi coincise con la nuova come si chiama la ministra di sicure con la sì con il decreto il rinnovamento di strade sicure di strade sicure quindi più militare per strada che invece della bandiera italiana c'erano la faccia di Pabbo cioè il loghino di Pabbo siete Pabbo lo siete due quindi siete la P2 infatti da una cosa io ve lo posso confermare alzati e gira fai vedere che ci sta scritto di da questa felpa ah ma come faccio alzati e sicuro basta che ti giri basta che ti giri no all'agilità di un di un di un si dispacem para Pabbo no bellissima bellissima quindi è evidente che io ho la la dittatura militare è proprio nel mio corpo questa era la prima la seconda era questa qua che ha detto che ha detto Peppe che perché si chiama l'imbannabile eh perché chissà come mai no perché ci hanno bandato cinque volte uno se se autopia per culo no 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 la gente sai che cos'è un po' è un po' tipo dei dei prof d'italiano che non ce l'hanno fatta per esempio il prof d'italiano quando si mette a parafrasare pure le scoregge dei dei poeti ecco questi fanno uguale però tipo sui nomi dei dei blogger delle persone sul web sono dei professori d'italiano che non ce l'hanno fatta adesso adesso ti denuncio pure per cominciare sono dei geni comunque no volevo rispondere a Eos Forella Forella o Forello Eos non lo so uomo o donna vediamo immediatamente che si sta per spegnere tutto qua che mi chiedeva dice ma tu lo sai che non c'è una rappresentanza politica e che quindi persone come te potrebbero rappresentare da quello che ho capito no io posso anche allora innanzitutto vi ringrazio per l'enorme fiducia che riponete nei miei confronti ma certe volte tendete a sopravvalutarmi indubbiamente io penso che la politica aspetta proseguendo Pablo da tempo è la prima sciaruppa che seguo bravo rimani bene Mauro benvenuto allora qua parliamo di roba che parliamo in maniera tra il leggero il scordito Eos io la faccio a dargli una risposta senza dico io penso che la politica sia anche la questione di saperla fare la politica no io sono sicura di saper fare discretamente quello che faccio ma non sono così tanto sicura di essere brava a fare politica e l'enorme rischio è che poi tu una volta che sei lì dentro sei totalmente incapace o totalmente nullo non è una mia aspirazione non è una mia ambizione come dire perché non hai fatto la ballerina perché non me ne è mai fregato niente del fare la ballerina io ho un obiettivo il mio obiettivo non è chiaramente soltanto quello di fare i podcast o di stare su youtube ho l'intenzione di puntare al giornalismo professionale quindi sto lavorando in quella direzione il sogno è fare la giornalista ma non la politica poi il discorso pure di Mazzucco dice pure saresti ricattabile è uno dei dubbi che mi pongo perché sono assolutamente convinta che una volta che vai là dentro devi scendere per forza a compromessi non è un posto dove ti permettono di essere libero e spensierato come se qui Paola non mi sembra una che scende a compromessi da quel che l'ho conosciuto non scendo molto a compromessi quindi non avrei vita diciamo longeva in politica assolutamente no ma poi il discorso è che invece avere più follower di George il discorso a me i commenti mi uccidono non ce la faccio questo internet che adoro poi prima hanno scritto un commento ma quindi Yemenen Yemenano sì sì Yemenano gli hanno scritto no però diciamo il discorso il discorso è quello quindi spero di averti risposto anche se mi interrompono Peppe mi ha interrotto otto volte mentre cercavo di risponderti ma è il solito di Peppe dai ognuno ha i suoi difetti su Pabble ma sicuro regà ma quelli ce l'hanno su tutti se lamentano tanto del dossieraggio ma il dossieraggio l'hanno sempre fatto e continueranno a farlo per sempre forever chiunque qualunque partito anche noi io nel cassetto pure ce l'ho una testata dal monocleare ma ancora non è il momento quando sarà il momento non vi preoccupate che uscirà fuori perché nella diretta di oggi mi parlava tramite Alexa da YouTube per scrivere perché questa non leggeva i commenti e io gli faccio gli faccio partire Alexa si può candidare aspetta un attimo che dobbiamo leggere un commento che è arrivato con donazione ti hai i miei soldi a loro anziché a voi diventrò povero ma con un ghigno di soddisfazione rosicate Claudio Claudio io te lo giuro proprio oggi ho contattato il ragazzo che mi fa i bigliettini da visita del mio negozio io ho chiesto una maglia una t-shirt e gli ho mandato una tua foto con scritto sponsor by ma veramente mi arriva la settimana ma stai scherzando o sei serio? no io me la metto ogni puntata della show ma tu sei un genio sponsor by la foto ho preso da Telegram tu sei un genio sono questi se lui mi autorizza a mettermela io me la metto questi sono i momenti che mi rendono fiara di te bravo ma certo ma certo che ti autorizza poi magari adesso ce la studiamo qualcosa anche per i 10.000 iscritti su YouTube e se fanno ci fanno la sigla perché uno deve chiedere a Green ci ha fatto una sigla non ce la fanno interroppo no non gliela fa ma pure dentro casa è così tu parli e lui ti parla sopra il bello cos'è che dice non si è sentito cosa ha detto aspetta poi mi stop ecco ma dobbiamo stare in silenzio ad aspettare che lui parla con Alexa ah perché adesso deve riscrivere aspetta da Giuseppe lascia l'uva sponsor vai ma tutto tra l'altro ha scritto che ci autorizza quindi siamo siamo a posto tra l'altro in questo di cose che dobbiamo fare 10.000 iscritti magliette quel che vuoi facciamo sto cazzo di telefono per i messaggi vocali che lì sì che ci sputtaniamo ho comprato la scheda mi sono dimenticato di postare non l'ho detto perché sono tutti incazzati io ci tengo voglio far pressione anche in questi momenti qua in live perché voi ragazzi dovete sapere che tra l'altro ci tengo a ringraziarvi di cuore stasera perché abbiamo superato anche le 600 persone prima nei momenti di punta quindi grazie mille ma voi dovete sapere che noi durante la settimana stiamo imbottitissimi Paolo ovviamente con le sue cose la seguite e fa uscire un video al giorno Peppe ovviamente con il suo lavoro io che sono a seguire le lezioni e intanto sto preparando due esami cioè noi ci sentiamo praticamente bene parlando faccia a faccia adesso il giovedì sera anche durante la conferenza a Legnano Peppe cercava di interrompere Paola con gli occhi è vero perché mi lanciò all'occhiata e io lo guardo Peppe e Peppe mi dice vi fa i scenni come per dire stai andando troppo lunga a corcia a svedo e quando fa così è tipo ricordati quella cosa che mi hai detto ieri di la capitola io capisco e poi abbiamo una scaramanzia prima che dico non fare biscotto dovete fare tipo microfono aperto di Radio Radicale agli 80 cioè ragazzi per quanto riguarda noi si potrebbe fare di tutto appena cresce questo podcast cresce chiaramente grazie alle vostre interazioni metti like metti like al video che è gratis almeno quello fallo dicevo alle vostre interazioni e alle vostre donazioni per me quando il podcast cresce possiamo fare i messaggi vocali possiamo ricevere le chiamate in diretta che me la sto studiando io come cosa come fanno che ne so tipo la zanzara i podcast più popolari così le radio cioè possiamo fare veramente di tutto ovviamente lo possiamo fare con calma grazie a voi grazie al nostro lavoro con calma faremo tutto ragazzi tranquilli tranquilli tra l'altro Roberto scusami ma se parlo solo di Pabble ma mi piacciono le donne ma che problema c'è ma parla di chi vuoi cioè figurati da Orsini c'era un tizio che mi sminuiva il post su Pabble dicendo che era un aggregazionista del cambiamento climatico figuriamoci se entrerà sempre ah che Orsini ha postato quindi oggi oggi capirai iarodutor turbo oggi è successo sta roba oggi Orsini ha pubblicato l'ultimo video che ho fatto perché oggi sono andato in live ieri ho fatto un video dove parlavo bene di sta roba di grosetto e Orsini l'ha pubblicato su sulla pagina Facebook il cambiamento climatico in un video di guerra non ne ho la più pallida idea fatto sta che magari ribadiamo la posizione non è che uno è negazionista del cambiamento climatico anche perché io da archeologa e da storica lo affronto come un qualcosa che storicamente c'è sempre stato io dubito fortemente della narrativa relativamente al cambiamento climatico per cui si attribuisce la colpa al cento per cento e solo ed esclusivamente all'uomo questo lo nego completamente non sono negazionista dire essere negazionisti del cambiamento climatico è come dire la terra è piatta per quanto mi riguarda cioè è un sì 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 è certo perché è quello alla fine è quello uno che dice una cosa del genere però uno che dice una cosa del genere se vai al sodo della questione è quello lì in principio no ma oltre quello il principio è che la narrazione politica che si fa di questo problema che andrebbe discusso in maniera seria secondo me da chi ha le credenziali per poterne discutere io penso che la polarizzazione politica intorno a temi del genere non faccia altro che aumentare la confusione tra chi appunto dice negazionista quando tu magari negazionista non sei dici soltanto regà aspettate un attimo però può essere che è solo l'uomo e allora prima quando non c'era l'uomo il clima cambiava lo stesso di chi era a colpa di scorreggere di dinotauri dobbiamo fare qualche calcolo in più prima di dire dovete comprare tutti le auto elettriche eccetera può essere che forse come ha detto Roberto siccome Roberto poi ci ha fatto anche dei bellissimi interventi al riguardo può essere che forse abbiamo invitato professori a parlarne questo 100% della comunità scientifica che sostiene il cambiamento climatico non sia questo 100% ma sia un gruppo ristretto di studi tra l'altro autocertificati per cui ci sia anche una falsa narrazione per cui il 100% della comunità scientifica abbiamo fatto live anche su questi argomenti andatevela a vedere quindi casomai andatevela a vedere tutti i nuovi arrivati andatevela a vedere quindi magari uno diciamo che due domandine se le dovrebbe fare quindi questo è il senso poi perché mi chiamino negazioni vabbè ma tanto mi chiamano di tutto l'altro live pure ero centro socialare a due minuti dopo di casa pound aspetta io ho mandato una cosa come ho detto la pubblica dove me la mandi su telegram o su whatsapp su telegram intanto aspetta che me la mandi leggo un commento tra quanto Orsini alla scialuppa sarebbe il primo posto dove lo lascio al fine di parlare ah no c'è Peppe nel caso quella sera non lo chiamiamo e cos'è sta roba no cos'è sta cosa che mi hai mandato ma l'hanno fatta ma chi gente a me mi mando la roba su telegram aspetta che la proietto che la faccio vedere in live sperando che lo venga giù per immagini di questo tipo ragazzi ragazzi vi prego se fate se fate sti meme qua mandateci lì perché ci vogliamo sputtanare noi in questi momenti da live con i commenti con tutti sti meme qua cioè vi prego mandateci lì su no poi sei proprio bella incazzata in quella foto lì quindi ci sta proprio bene non lo so fanno delle cose su di me che io non ho concezione Peppe la mattina cerca Pabble su internet gli compaiono tra video contro meme cose è una cosa strana sta succedendo però vabbè ci divertiamo tantissimo allora dov'è qua mi sono scordato di ringraziare un abbonamento mikita 0267 grazie mille per sostenerci da tre mesi io vi ricordo per l'ultima volta all'interno di questa live che ci potete sostenere anche con Paypal anche con semplicemente con una donazione di un euro per esempio quello che ho ringraziato all'inizio di questa live per quanto riguarda la donazione su Paypal ci aveva fatto la donazione proprio di un euro e va anche va anche benissimo così grazie mille non sono ironico siete in 500 in questo momento immagina se ogni persona non dico anzi non ogni persona la metà la metà delle persone in questo momento donasse anche semplicemente un euro su Paypal cioè ragazzi andiamo in live almeno due o tre volte a settimana con una sì cioè io voglio intensificare anche la presenza delle live questo indubbiamente che magari sarebbe pure figo fare più appuntamenti a settimana io voglio fare un appuntamento solo io tipo la rubrica sui tiktoker napoletani sui tiktoker napoletani stanno facendo la casa del grande fratello di tiktoker napoletani seguiteli oh cos'è sta notizia praticamente sono andati in una casa tutti insieme tutta la sporcizia di internet e si sono messi in una casa immagina immagina i decibel immagini i decibel di quella casa nemmeno i decibel perché non si può dire vabbè ma saranno filosofia proprio saranno tipo dialoghi tra Socrate e Platone capito sta roba così cioè proprio ci saranno simposi intellettivi alti immagino c'è stata Rita de Crescenzio la prima la regina della casa ho capito vabbè dobbiamo vederlo assolutamente io ho donato su paypal per olliefans di Peppe ma ancora non si vede arriva che gli fa la reaction ai tiktoker napoletani nel caso tra l'altro poi c'è pure quella diatriba su tiktok che adesso non si sa bene che cosa succede negli Stati Uniti ah la censura eh no vogliono proprio toglierlo nel senso sì va bene intendevo censura in quel senso lì sì che il diciamo il compromesso è che o la Cina lo vende agli Stati Uniti oppure gli Stati Uniti lo vietano io vorrei sapere come fanno visto che un sacco di gente ce lavora gli andanno coi forconi praticamente sotto ma pare che ci sia lo zampino di Zuckerberg in mezzo forse un po' lo zampino di Meta che ci vorrebbe mettere la manina sopra visto che Meta c'ha avuto proprio un crollo di iscritti soprattutto su Facebook stanno morendo tutti tremendo meno 47% stanno morendo minchia eh sì 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 porca troia vabbè giustamente ma se tu non fai più vedere i contenuti politici e li fai scorrere sotto i fili ormai cioè su Facebook per la musica non è manco un social così tanto giovane no ci sono rimasti no 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 a generazione mia a salire quindi voglio dire un ventenne di oggi non usa più Facebook se tu gli togli pure quell'interesse minimo del poter condividere un post politico un articolo o qualcosa perché se non me segui censure indiscriminate segnalazioni e ban negli ultimi tre anni come se non ci fossero domani con il pretesto della sicurezza come ha detto con il pretesto della sicurezza esatto che poi quello è il pretesto giusto per fare sempre un po' come come gli pare ci ha provato a fare un tiktok meta sarebbe tre ma è una merda no tre è andato malissimo che doveva essere l'anti il nuovo tiktok a cavallo no l'anti twitter ma era un po' a cavallo tra tutto tra instagram tra telegram e twitter perché potevi fare le note vocali come telegram voleva essere un crossover quello delle note vocali è stata una rivoluzione siete mai nati su tutti i post tipo della Meloni o di Salvini i Salvini sono solo Rutti geniale è stato bellissimo Rutti faccetta nera tipo con le robe lì ma tra l'altro è quella la bellezza di internet ha fatto un sacco riflettere e non so se ridere o piangere non saprei come fare secondo me tra l'altro l'avevo anche detto in una delle live scorse su threads appena è stato scaricato la marea di persone che ha iniziato a pubblicare la qualsivoglia cosa per raccattare interazioni diventare popolare all'interno di quella piattaforma cioè c'erano delle ragazze che letteralmente si mettevano nude delle robe che da youporn non so come si usa a parte quello non so come si usa ma poi ho visto dei post dei threads proprio delle stesse ragazze che dicevano non so come si usa e dopo rilanciavano con altri argomenti molto cliccati che ne so le robe tipo di di baffetto ok cioè mettevano letteralmente le foto di baffetto del pelatone non siamo troppo specifici perché sennò ci buttano giù la live anche qua su no allargito anche non posso leggere il commento però non bannano su threads per il momento ancora no quindi vi potete sbizzarrire pubblicate quello che vi pare come era facebook come ai bei tempi di int perché internet aveva anche questo che era molto molto bello secondo me cioè proprio divertente capito io mi ricordo stiamo parlando sempre la prima vignetta che facemmo contro calo la rachete era contro la rachete la primissima vignetta contro la rachete sì e tipo il commento migliore era mori era mori beach diciamo non voglio dirlo in italiano però nessuno bannava niente il care rendeva tutto estremamente divertente a mio avviso ma non perché uno deve fare chissà quale tipi di ostentazione cose del genere proprio perché libera era un'altra cosa e dai tempi del nostro internet quando abbiamo fatto il passaggio come spondi come spondi una porta aperta perché come sai la libertà di parola anche in casi un po' più un po' più estremi mi sta mi sta sempre a cuore perché penso che una volta che metti dei paletti dopo questi paletti possono essere sempre controllati per buttartela nel culo appena diventi scomodosa i paletti o i manganelli di Kevin che arriva qua allora guarda Sandro dice scusate ma quello che state facendo voi riporta internet indietro di vent'anni ma magari ci tornasse indietro di vent'anni internet era un posto sicuramente migliore dai diciamo ah ma eravamo anche una società migliore a me piaceva perché ci sapevo stare dentro ci sapevo stare perché era una giungla una giungla tremenda e quindi tu sapevi che se ti approcciavi a questa giungla poi eri in ballo e ballavi quindi anche se tu volevi fare come gli youtuber degli esordi proprio dei primissimi tempi di youtube che ormai risalgono a più dei dieci anni fa no venti siamo vecchi siamo dei vecchi quasi vent'anni fa cioè tu sapevi che se volevi esporti in quello che era una giungla totale poi dovevi essere strastrutturato per sostenerla quella giungla invece adesso si approcciano si approcciano con la facilità del dire oh ma io faccio il content creator che cazzo me ne frega guadagno facile che poi ne manco vero perché per guadagnare gli fa un culo come un secchio e nel frattempo poi tra l'altro indignandosi o soffrendo di qualunque commento adesso vai se piangi adesso vai se piangi vai lì fai le tue cattate ti metti ti metti mezza nuda oppure ti metti con certe caratteristiche particolari ti arrivano certi commenti che assolutamente noi non ci associamo a certi commenti ci mancherebbe però è normale che in un ambiente come internet è fatto di leoni dalla tastiera l'avete visto anche in questa live non per forza in questa ma anche nelle scorse che c'è certa gente che sta nei commenti a scriverci qualsivoglia cosa poi gli inviti vieni ti faccio entrare e scappano via cioè è internet che è fatto così e oggi se è vero che una volta appunto come stavi dicendo te bisognava avere due coglioni quadrati così per stare su internet adesso è il contrario cioè tu devi andare lì e piangere e cercare interazioni piangendo eccetera eccetera c'è può essere un'inversione totale mi sembra che sia diventata io poi ero un nerdacchione di blog i blog erano ancora più selvaggi certo che erano selvaggi io mi ricordo blog di discussioni sui rettili perché quando ero piccolo io avevo i serpenti le iguane eccetera ah il rettiliano il rettiliano un caffè a testa per ringraziarvi grazie grazie Venom dicevo che integratore di calcio devo me lo ricordo ancora uno disse non comprare nessun integratore se tua mamma fa le seppie tritagli l'osso di seppia madonna la sera mille commenti che disse pezzo del merda stronto coglione il c34 è migliore sì sì ma va bene ma tutti quanti i blog erano tremendi il mondo dei fumetti allora ancora peggio una delle community più tossiche di internet perché se sbagliavi anche solo un'interpretazione la pagina tuttora una delle community più tossiche che esista però in generale era giusto così perché io vedo che la costante è diventata piangere che vai bene finché te fanno gli applausi e te dicono bravo bravo poi appena dici la cazzata che è dietro l'angolo per tutti tutti quanti che si piazzano la telecamera in faccia dicendo mi hanno bannato mi hanno censurato non mi avete capito chiedo scusa abbiamo avuto fulgiti esempi negli ultimi periodi di questo accettamento qua quindi io non lo so io preferivo forse gente un po' più strutturata che anche se c'era la bolgia là sotto diceva ma sì ma è internet che cazzo me ne frega la vita reale è un'altra no? invece adesso vedi così come c'è gente che pensa di poter tramutare i like in voti e pensa che la politica si faccia su internet c'è gente che pensa che la vita vera sia internet e quindi subisce internet come se fosse una dinamica che sta più su internet che nella vita vera è quello il problema sì assolutamente noi abbiamo io sono fortunata perché internet lo uso per lavorare ci faccio quello che ci devo fare ma ad esempio non sono in nessuna community non faccio parte del mondo di internet in qualche modo no? perché ad esempio io non è che mi metto lì a commentare tranne alcuni politici o giornalisti che ho preso Demira però tendenzialmente no anche perché Paola anche le loro social cioè vi dico la verità infatti pensavi a guardare male perché? no perché tu allora mi ricordo sì lo abbiamo notato tutti quello stavo guardando male perché pensavi a guardare male? no perché tu sei una vecchia su queste cose no ma io sono contenta noi siamo conosciuti grazie ad un ad un disegno su internet lei il suo facebook lo curava talmente male che io non riuscivo manca a capire era uomo o donna perché non mettevo foto mie quelle che ci sono sono orribili perché ecco quelle dei pallavolo cioè che devo fare ho capito ma io non ero un esibizionista che aveva voglia di condividere la sua vita su internet ci condividevo i disegni ma è bene che c'è gente ancora così bene bene ma non capiva se ero uomo o donna ci ha messo due settimane per capire che ero una donna praticamente ma tu ti posso fare ma sei femmina o maschio c'è due settimane però io non capite il fondo di quei vasetti di merda che facevi quando lavoravo la ceramica quella merda che facevo sì lo so cioè condividivi su facebook i vasetti che facevi sulla ceramica io lavoravo la ceramica non me ne facevo un cazzo li condividevo questi cazzi perché per me era più una cosa per me che per gli altri avevo forse veramente dieci contatti a sudare cioè la storia di Pabble sì quindi pensa poi da quello a capire bene abbiamo fissato abbiamo fissato un nuovo obiettivo 200.000 iscritti vogliamo un video di Paolo e Peppe che rilasciano tutta la loro la loro storia completa un documentario appena ci arriva il silver appena ci arriva il silver button facciamo una bella live per la gente che ci ha seguito e sostenuto e contribuito giusto a rendere questo traguardo tale traguardo ma andammo a fanculo tutti quelli che stanno a rosicare e ciao e ciao e ciao e anche stasera e ciao a tutti perché abbiamo fatto due ore c'è una foto dimmi da bambino no basta la fai vedere poi ancora ecco vabbè se no non finiamo più se tu intende non ce l'ho io da bambino ecco qua zuma che occhio occhio al riflesso ah sì sì è proprio lui ecco proprio lui si ci siamo visti pure pure Peppe da bambino dai ragazzi non vi conviene perché ho fatto il diciottesimo di stile napoletano quindi basta ok perfetto adesso forse così ce la posso fare a chiudere la live allora ragazzi grazie mille per averci seguito questa sera siete stati tantissimi ci avete confermato che che quando chiamiamo qua in questa sera in queste serate Tiziano Ciocchetti ci mostrate tantissimo affetto e apprezzate tantissimo Luca che mi ha ordinato un libro in questi giorni sì è stato spedito vai tranquillo sta arrivando per il resto ragazzi seguitici su tutti i social su Instagram e Telegram in particolare per rimanere aggiornati nel caso di nuove puntate speciali sosteneteci se volete nuove puntate speciali perché se arrivano abbastanza donazioni e abbastanza interessi sul canale cioè forse per noi potremmo essere in live anche tutti i giorni e quindi per il resto se no ci vediamo giovedì prossimo alle 21 ai soliti link sempre a bordo della scialuppa buonanotte ragazzi ciao ciao ciao